81. Il conte Langsdorf si pronuncia sulla Realpolitik. Ulrich fonda associazioni. Mentre nel concilio non si notava ancora il più piccolo accenno di risultato, l'azione parallela nel palazzo del conte Langsdorf faceva rapidi progressi. Là convergevano i fili della realtà e Ulrich ci andava due volte la settimana. Nulla lo stupiva come il numero di associazioni che esistono al mondo. Inviavano messaggi, le confederazioni di terra e di mare, i circoli di bevitori e le leghe di temperanza. Insomma, associazioni e controassociazioni. Tutte appoggiavano le aspirazioni dei loro membri e ostacolavano quelle degli altri. Si sarebbe detto che ogni creatura vivente appartenesse a un'associazione almeno. «Vostra signoria mi perdoni», diceva Ulrich stupito, «questa non è soltanto circolomania, come si suol dire scherzosamente. Questo è il fatto mostruoso che nel tipo di assetto statale che abbiamo inventato, ogni individuo appartiene ancora a una banda di briganti». Il conte Langsdorf, invece, aveva un debole per le associazioni. «Lai dovrebbe riflettere», e gli replicò, «che la politica ideologica non ha mai condotto a nulla di buono. Noi dobbiamo fare della «real politique». Io non esito a dire che le tendenze eccessivamente spiritualistiche dell'ambiente di sua cugina sono alquanto pericolose». «Vostra signoria vorrebbe darmi qualche direttiva», chiese l'altro. Il conte Langsdorf lo guardò. Si chiese se ciò che aveva intenzione di dire non fosse troppo temerario per l'uomo più giovane e inesperto. Ma poi si decise. «Ascolti», incominciò cautamente. «Ora le dirò qualcosa che forse lei, essendo giovane, non sa ancora. La politica realistica è non fare appunto quello che si vorrebbe. Invece si possono conquistare gli uomini appagando i loro desideri minori». L'ascoltatore guardò sbalordito il conte Langsdorf, che sorrise lusingatissimo. «Dunque, dicevo, è vero», seguitò a spiegare, «che la politica realista non deve lasciarsi guidare dalla forza dell'idea, ma dalla necessità pratica. Chiunque, naturalmente, vorrebbe avverare le belle idee, non c'è bisogno di dirlo. Perciò, giusto quello che si vorrebbe, non si deve fare». «Lo ha già detto Kant». «Davvero?», escrivò Ulrich, stupefatto dell'informazione. «Ma bisogna pure proporsi uno scopo, no?» «Uno scopo?» Bismarck voleva far grande il re di Prussia. Ecco il suo scopo. «Non sapeva dal principio che per ottenerlo avrebbe fatto la guerra all'Austria e alla Francia e fondato l'impero germanico. Dunque, vostra signoria, intende dire che noi dobbiamo desiderare la grandezza e la potenza dell'Austria, null'altro. Abbiamo ancora quattro anni di tempo. In quattro anni può accadere di tutto. Si può mettere in piedi un popolo, ma poi deve camminare da sé. Mi capisce? «Metterlo in piedi, questo dobbiamo. Ma i piedi di un popolo sono le sue istituzioni salde, i suoi partiti, le sue associazioni, eccetera, e non le chiacchiere che ci fanno. Ma, signor Conte, questo, anche se non pare, è un pensiero veramente democratico. Beh, forse è anche aristocratico, quantunque quelli della mia casta non mi capiscano». Il vecchio Einstein e Tirkheim, che è titolare di un maggior a scato, mi hanno risposto che ne verrà fuori una porcheria. Dunque, edifichiamo con cautela. Dobbiamo costruire dal piccolo. Sia gentile con la gente che viene a noi. Perciò Ulrich, nei giorni seguenti, non mandò via nessuno. Venne un tale, ad esempio, che gli parlò a lungo di filatelia. Innanzitutto favoriva l'internazionalismo, e gli disse. Poi soddisfava la tendenza alla proprietà e al farsi valere, che è innegabilmente il fondamento della civiltà. E in terzo luogo esigeva non soltanto una certa cultura, ma addirittura prese di posizioni artistiche. Ulrich guardava, l'uomo che era d'aspetto gramo e meschino, gli parve aver colto il significato di quello sguardo, perché soggiunse che i francobolli erano anche un prezioso articolo commerciale, con un movimento di milioni. Commercianti e collezionisti affluivano alle grandi borse filateliche da tutti i paesi del mondo. C'era da farsi ricchi, ma lui, per parte sua, era un idealista. Voleva portare a perfezione una raccolta speciale, che per adesso non aveva amatori. Deciderava soltanto che nell'anno del giubileo si facesse una grande esposizione di francobolli, e allora avrebbe pensato lui ad aprire gli occhi del pubblico sull'importanza della sua collezione particolare. Dopo di lui venne un altro, e raccontò quanto segue. Da anni, quando camminava per le strade, ma era ancora più eccitante quando si trovava in tram, e gli contava le sbarre delle grosse lettere latine sulle insegne dei negozi. A, per esempio, ne aveva tre, M, quattro, e divideva la loro somma per il numero delle lettere. Finora il risultato era in media due e mezzo, ma naturalmente non si poteva considerare immutabile, e talvolta variava da strada a strada. Così si era colti da grande affanno a ogni disparità, e da gran gioia a ogni concordanza. Il che somiglia all'effetto sublimante che si attribuisce alla tragedia. Se poi si contavano le lettere stesse, allora il signore poteva accertarsene. La divisibilità per tre era un vero colpo di fortuna, ragione per cui la maggior parte delle scritte lasciava addosso un vivo senso di insoddisfazione, tranne quelle costituite da lettere di massa, cioè con quattro sbarre, per esempio W e M, che danno in ogni caso un grandissimo piacere. «E la conclusione», disse il visitatore, «la conclusione era che il Ministero dell'Igiene Pubblica doveva emanare un decreto per raccomandare ai proprietari di negozi la scelta per le loro insegne di parole contenenti lettere a quattro sbarre e l'esclusione nei limiti del possibile di lettere a una sbarra sola, come O, S, I, C, che diffondevano nel pubblico un senso di tristezza e di insoddisfazione». Ulrich scrutava l'individuo, avendo cura di lasciare un certo spazio fra sé e lui, ma in verità non sembrava uno squilibrato. Era un uomo sulla trentina d'aspetto intelligente e cordiale che doveva appartenere al buon ceto medio. Seguitò a spiegare tranquillamente che il calcolo materiale era un requisito necessario in tutte le professioni, che corrispondeva al moderno sistema pedagogico di dare all'insegnamento la forma di un gioco e che la statistica aveva già svelato da tempo nessi evidenti prima che se ne trovasse la spiegazione che il grave danno prodotto dalla cultura libresca era ormai noto e che infine la commozione provata da tutti coloro che saranno decisi a ripetere l'esperimento parlava da sola. Se il Ministero dell'Igiene Pubblica avesse applicato la sua scoperta, altre nazioni avrebbero tosto seguito l'esempio e l'anno del Giubileo sarebbe stata una benedizione per tutta l'umanità. Alle persone di quel genere Ulrich suggeriva lei dovrebbe fondare un'associazione. Ha ancora quasi quattro anni di tempo e se ci riesce, sua signoria le darà certo il massimo appoggio. Quasi tutti però avevano già un'associazione e allora la cosa era diversa, relativamente semplice quando una società calcistica proponeva di dare al suo terzino destro il titolo di professore per documentare l'importanza della cultura fisica moderna perché in tal caso si poteva sempre promettere collaborazione. Più difficile invece in casi come il seguente in cui il visitatore era un cinquantenne che si presentò come ufficiale di cancelleria. La sua fronte era cinta dell'aureola del martirio ed egli dichiarò di essere il fondatore e presidente della Società per la Stenografia Öl che si permetteva di attirare sul sistema stenografico Öl l'attenzione del segretario della grande azione patriottica. Il sistema Öl, egli soggiunse, era un'invenzione austriaca e questo bastava a spiegare come mai non avesse avuto diffusione né appoggio. Chiese ad Ulrich se sapeva stenografare. Ulrich rispose di no e tosto gli vennero illustrati i vantaggi morali della scrittura abbreviata. Risparmio di tempo, risparmio di energia spirituale. Provasse un po' a stimare la quantità di lavoro mentale che si sprecava ogni giorno con tutti quei ganci e svolazzi e arabeschi, imprecisioni, ripetizioni confusionali di immagini parziali, mescolanze di elementi necessari, espressivi, con altri puramente arbitrali e ornamentali. Ulrich, con sua soddisfazione, fece la conoscenza di un uomo che aveva votato odio implacabile a quella cosa apparentemente innocua che è la scrittura normale. Come risparmio di fatica intellettuale, la stenografia era un problema vitale dell'umanità in continuo progresso sotto il segno della fretta. Ma anche da un punto di vista etico, la questione, lungo o corto, era di portata decisiva. La scrittura dalle lunghe orecchie, come l'ufficiale di cancelleria la chiamava amaramente per via dei suoi assurdi cappi, induceva all'imprecisione, all'arbitrio, alla prodigalità e alla perdita di tempo, mentre la scrittura abbreviata educava all'esattezza, alla forza volitiva, alla solidità virile. La stenografia insegnava a fare il necessario e a tralasciare l'inutile, che non serve allo scopo. Non credeva al Signore che questo fosse un pezzo di morale pratica, di grande importanza, soprattutto per gli austriaci. Ma la questione si poteva anche considerare sotto l'aspetto estetico. L'ampollosità non è considerata ragione di cattivo gusto? L'espressione di massima razionalità non era già stata riconosciuta dai classici come una componente essenziale del bello. In fatto di gene, poi, seguitò il visitatore, era straordinariamente urgente abbreviare le ore in cui la gente sta seduta a scrivere curva sul tavolino. Dopo aver similmente trattato la questione della stenografia, anche sotto altri svariati aspetti scientifici, con meraviglia dell'interlocutore, l'ufficiale di cancelleria passò a descrivere l'infinita superiorità del sistema Öl su tutti gli altri sistemi. Gli dimostrò che, per le considerazioni già esposte, ogni altro sistema stenografico era un tradimento del concetto di stenografia. E poi gli snocciolò la storia delle sue pene. C'erano i sistemi più vecchi, i più poderosi, che avevano già avuto tempo di far lega contro ogni sorta di interessi materiali. Nelle scuole di commercio si insegna il sistema Fogilbauch e si faceva opposizione a ogni mutamento. Con l'appoggio si intende di tutta la classe mercantile, sempre obbediente alla legge dell'inerzia. I giornali, che come ognuno può constatare, guadagnano sacchi di denaro con gli avvisi commerciali, erano chiusi del pari ad ogni proposta di riforma. E il ministero dell'istruzione? Quello poi era il colmo dell'ironia, disse il signor Hull. Cinque anni prima, quando era stato introdotto l'insegnamento obbligatorio della stenografia nelle scuole medie, il ministero aveva nominato una commissione d'inchiesta per stabilire quale fosse il miglior sistema da adottare. E naturalmente nella commissione c'erano i rappresentanti delle scuole commerciali, della classe mercantile, degli stenografi parlamentari, che sono un'anima sola coi cronisti dei giornali e nessun altro. Era chiaro che si voleva adottare il sistema Vogelbauch. La società per la stenografia Hull aveva messo in guardia contro questo delitto lesivo del prezioso patrimonio del popolo ed elevato fiere proteste. Ma le sue delegazioni non erano neppur più ricevute al ministero. Hull riferiva quei casi a sua signoria. «E?» chiese il conte Leinsdorf. «Ed è un impiegato. Sua signoria si soffregò a lungo la punta del naso ma non giunse a una risoluzione. Forse lei dovrebbe parlare con il consigliere aulico preposto a quell'ufficio per vedere un po' se è un uomo che vale» disse dopo un po'. Ma quel giorno era pieno di fantasia creatrice e cambiò subito idea. «No, sente, chiediamo piuttosto per iscritto così dovranno spiegarsi chiaro» e fece un commento confidenziale ad illuminazione di Ulrich. «Con tutte queste cose non si può mai sapere se non siano sciocchezze» opinò. «Ma vede, dottore, qualcosa di importante ne scaturisce regolarmente dal fatto appunto che lo si è preso sul serio». «Me lo conferma è il caso del dottor Arnheim che è sempre inseguito dai giornalisti. I giornali potrebbero anche occuparsi di qualcos'altro ma rincorrendo il dottor Arnheim ecco che lo rendono importante. Diceva che Codesto Öl a un'associazione beh, questo non significa niente ma d'altra parte lo ripeto bisogna pensare modernamente e se molta gente parteggia per una cosa si può essere abbastanza sicuri che qualcosa ne uscirà». 82 Clarisse vuole l'anno di Ulrich indubbiamente Ulrich andava a trovare Clarisse per l'unica ragione che bisognava metterle la testa a posto a proposito della lettera da lei scritta al conte Leinsdorf quando Clarisse era venuta da lui se n'era completamente dimenticato tuttavia durante il tragitto pensò che Walter era certamente geloso di lui e che la visita l'avrebbe irritato ancora più quando fosse venuto a saperlo ma Walter non poteva farci niente e in fondo era assai buffa la situazione in cui si trovava la maggioranza degli uomini solo dopo la chiusura degli uffici hanno tempo se sono gelosi di sorvegliare la moglie l'ora in cui Ulrich aveva deciso di uscire escludeva quasi che Walter potesse trovarsi in casa era di primo pomeriggio si era annunziato con una telefonata le finestre parevano senza tende tanto era intenso il biancore dei campi di neve che entrava attraverso i vetri in quella luce spietata che attorniava tutti gli oggetti Clarisse era ritta al centro della stanza e sorrideva all'amico dove la curva appiattita del corpo sottile sarquava verso la finestra essa risplendeva in vivaci colori mentre il lato in ombra era nebbia bruno-azzurra da cui la fronte il naso e il mento aggettavano come nervature di neve di cui vento e sole obliterano la nettezza e la somigliava meno a una creatura che a un incontro di ghiaccio e di luce nella spettrale solitudine di un inverno in alta montagna Ulrich capì un poco il fascino che ella doveva avere per Walter in certi momenti e i suoi sentimenti contradditori per l'amico di gioventù cedettero per breve tempo alla rivelazione del quadro che dovevano flirsi reciprocamente due esseri dei quali forse egli conosceva appena la vita non so se tu abbia detto a Walter della lettera che hai scritto al conte Leinsdorf egli cominciò ma son venuto a parlarti da solo a sola e per esortarti a tralasciare in futuro simili iniziative Clarisse avvicinò due seggiole e lo costrinse a sedersi non parlarne con Walter e la pregò ma dimmi che cos'hai in contrario si tratta dell'anno di Nice e cosa ha detto il tuo conte che vuoi che abbia detto quella tua idea di mettere tutto in rapporto con Moss Brugger era veramente pazzesca e in ogni modo avrebbe buttato via la lettera ah sì Clarisse era molto delusa poi dichiarò per fortuna ci sei anche tu ti ho già detto che sei semplicemente pazza Clarisse sorrise e l'interpretò come un complimento posò la mano sul braccio dell'amico e chiese anche l'anno austriaco ti sembra una sciocchezza certo ma un anno di Nice sarebbe una cosa buona perché non si dovrebbe volere una cosa solo perché ci sembra buona come te lo immagini tu l'anno di Nice domandò lui questo è affartuo sei buffa niente affatto dimmi perché ti pare ridicolo attuare quello che pensi seriamente te lo dico subito rispose Ulrich liberandosi dalla sua mano non occorre che sia proprio Nice potrebbe anche trattarsi di Cristo o di Buddha o di te su inventa un anno di Ulrich lo disse nello stesso tono tranquillo in cui l'aveva pregato di liberare Mosbrugger ma questa volta Ulrich non era distratto e la guardava bene in faccia ascoltando le sue parole in faccia c'era soltanto il consueto sorriso di Clarisse che senza volerlo riusciva sempre come una piccola smorfia allegra spremuta con lo sforzo meno male che gli pensò le sue informazioni non sono cattive ma Clarisse si avvicinò nuovamente perché non organizzo un anno tuo adesso forse ne avresti il potere non potevi farne parole con Walter te l'ho già detto e neanche di quella lettera di Mosbrugger non deve neanche sapere che io ne parlo con te ma credimi quell'assassino è musicale solo che non sa comporre musica non hai mai notato che ogni essere umano sta nel centro di una sfera celeste se si muove dal suo posto si muove anche la sfera così bisogna fare la musica senza coscienza semplicemente come la sfera celeste che ci contiene e qualcosa di simile dovrai scogitare per il mio anno secondo te no rispose Clarisse a caso le sue labbra sottili si mossero per dire qualcosa ma invece tacquero e la fiamma s'ettò muta dagli occhi era impossibile dire quel che emanava da lei in tali momenti un ardore come quando si va troppo vicino al fuoco ora sorrideva ma il sorriso si increspava sulle sue labbra come un residuo di cenere dopo che la fiamma nei suoi occhi si era spenta in caso estremo è proprio qualcosa di simile che saprei ancora scogitare ripetei Ulrich ma ho paura che secondo te dovrai fare un colpo di stato Clarisse rifletteva beh diciamo allora un anno di Buddha opinò senza raccogliere la sua obiezione non so bene cosa volesse Buddha solo così all'incirca ma partiamo da un presupposto e se ci pare che abbia un significato traduciamolo in atto una cosa merita che ci si creda oppure non lo merita va bene sta attenta hai detto l'anno di Nietzsche ma che cosa voleva Nietzsche esattamente Clarisse meditò ma certo non intendevo dire di elevare un monumento a Nietzsche o di dare il suo nome a una strada disse imbarazzata ma bisognerebbe indurre gli uomini a vivere come come voleva lui interrompe Ulrich e come pretendeva lui che ci vivesse Clarisse cercò di rispondere attese alla fine disse via tu lo sai di certo io non so niente e gli la canzano ma lascia che ti dica una cosa si può realizzare il progetto di un'opera Francesco Giuseppe per la distribuzione gratuita di minestre o quello di una società protettiva fra i proprietari di gatti ma le buone idee non si possono tradurre in atto come non si può tradurre in atto la musica perché non lo so ma è così finalmente si era seduto sul piccolo sofà dietro il tavolo quel posto offriva maggiori possibilità di resistenza che l'altro sulla seggiolina nel centro vuoto della stanza come sull'altra sponda di un gioco di rifrazione che prolungava il piano del tavolo Clarisse era ancora sempre dritta e parlava il suo corpo sottile parlava e pensava in sordina anch'esso in verità tutto quello che la voleva dire lo sentiva dapprima con tutto il corpo e provava il bisogno incessante di farne qualcosa Ulrich aveva sempre creduto che ella avesse il corpo ferreo di un giovinetto ma adesso in quella morbida mobilità sulle gambe serrate gli apparve a un tratto come una danzatrice giovanese e improvvisamente pensò che non si sarebbe stupito se ella fosse caduta in trance oppure era in trance lui stesso tenne un lungo discorso a te piacerebbe vivere secondo la tua idea e gli cominciò e vorresti sapere come si fa ma un'idea è la cosa più paradossale del mondo la carne è collegata con le idee come nel feticismo se l'idea c'è la cosa diventa magia un volgarissimo schiaffo nel c'è l'idea di onore di vendetta eccetera può diventare mortale eppure le idee non si possono mai mantenere nello stato in cui sono più forti sono come quelle materie che a contatto dell'aria si trasformano subito in altre più durevoli ma corrotte è avvenuto spesso anche a te perché anche tu sai un'idea in uno stato definito qualcosa ti alita intorno come quando il vibrar delle corde all'improvviso diventa suono qualcosa ti sta dinanzi come un miraggio dal caos della tua anima si è formato un convoglio senza fine e tutte le bellezze del mondo appaiono schierate sulla sua strada questo può produrre talvolta un'unica idea ma dopo un poco l'idea diventa simile a tutte le altre idee che hai già avute si subordina ad esse diventa una parte del tuo modo di vedere e del tuo carattere dei tuoi principi o dei tuoi stati d'animo ha perduto le ali e ha preso una solidità senza mistero Clarisse replicò Walter è geloso di te mica per colpa mia ma perché tu hai l'aria di poter fare quello che a lui piacerebbe di poter fare capisci? in te c'è qualcosa che gli toglie delle possibilità non so come esprimerlo lo guardò inquisitiva i due discorsi erano come intrecciati l'uno con l'altro Walter era sempre stato il tenero beniamino della sua vita e sedeva sulle ginocchia qualunque cosa gli succedesse egli la trasformava in delicata vitalità era sempre stato quello che accumulava più esperienze ma far molte esperienze è uno dei segni più precoci e sottili ai quali si riconosce l'uomo mediocre pensò Ulrich le connessioni tolgono all'esperienza ogni personale virulenza o dolcezza era così all'incirca e l'affermazione medesima che fosse così era un nesso per il quale non si riceveva né un bacio né un congedo tuttavia Walter era geloso di lui gli faceva piacere gli ho detto che deve ucciderti riferì Clarice che cosa ammazzarti gli ho detto se tu non valessi tanto quanto ti immagini o se egli fosse migliore di te e solo così lui potesse aver pace sarebbe ben ragionato no e del resto tu ti puoi difendere è una bella idea rispose Ulrich dubitoso beh si parlava soltanto ma tu che ne dici Walter dice che una cosa simile non si deve nemmeno pensare ma sì pensare perché no rispose Ulrich incerto e guardò attentamente Clarissa aveva un fascino singolare si può dire come se fosse alleato a se stessa era assente e presente tutte e due le cose strettamente accoppiate uff pensare e la interruppe parlava rivolta verso la parete dietro Ulrich seduto come se guardasse un punto fra lui e il muro tu sei passivo esattamente come Walter anche quella frase stava tra due distanze allontanava come un'offesa e riconciliava presupponendo una vicinanza confidenziale io invece dico se si è capace di pensare qualcosa allora bisogna anche essere capaci di farlo replicò Asciutta poi lasciò il suo posto andò alla finestra e intrecciò le mani dietro la schiena anche Ulrich salzò la seguì e le mise un braccio intorno alle spalle piccola Clarissa sei stata molto strana Aurora ma devo mettere una buona parola per me in fondo io non ti riguardo affatto mi pare e gli disse Clarissa guardava fuori della finestra ma intensamente ora fissava qualcosa laggiù per aggrapparvisi e sembrava che i suoi pensieri avessero indugiato altrove e solo adesso fossero ritornati quell'impressione di essere come in una stanza dove si sente che si è appena chiusa la porta non era nuova c'erano talvolta giorni e settimane in cui tutto quello che la circondava era più chiaro e più leggero del solito come se non fosse difficile scivolarvi dentro e andare a spasso per il mondo fuori di se stessa e così venivano poi ore più grevi in cui si sentiva come imprigionata quasi sempre quest'ultime duravano poco ma essa le temeva come un castigo perché allora tutto diventava triste e angusto e nel momento presente caratteristico per la sua limpida ragionevole calma ella si sentiva incerta non sapeva più bene quel che voleva poc'anzi e quella plumbia chiarezza quella padronanza apparentemente placida preludevano sovente alla punizione Clarisse si tese ed ebbe la sensazione che se avesse potuto seguitare il discorso in modo convincente si sarebbe posta al sicuro non dirmi piccola si imperma lì se no finisce che t'ammazzo io stessa adesso veniva fuori come un pure semplice scherzo dunque era riuscita si volse cautamente a guardarlo naturalmente è un modo di dire riprese ma devi capire che qualcosa intendo dove eravamo rimasti hai detto che non si può vivere secondo un'idea non avete l'energia necessaria né tu né Walter mi hai orribilmente accusato di passività ma ce ne sono di due spese c'è la passività passiva ed è quella di Walter e l'attiva che cos'è la passività attiva chiese Clarisse incuriosita l'attesa del prigioniero che gli si presenti un'occasione di fuga ah fece Clarisse belle scuse beh sì concesse lui forse Clarisse teneva ancora le mani dietro la schiena e le gambe divaricate come chi calza stivali da equitazione sai bene cosa dice Nietzsche voler sapere con certezza è un'aviltà come voler camminare sicuri da qualche parte bisogna incominciare a fare non parlarne soltanto proprio da te io mi aspetto che un giorno o l'altro avresti intrapreso qualcosa di speciale sarà impadronita di un bottone della giacca di Ulrich e lo girava con la faccia rivolta in su a guardarlo involontariamente egli pose la mano su quella di lei per proteggere il bottone c'è una cosa sulla quale ho riflettuto a lungo e la ripresa esitando tutte queste bassezze al giorno d'oggi non si producono perché le facciamo ma perché lasciamo loro ogni libertà crescono nel vuoto lo guardò dopo questa affermazione poi continuò con fuoco lasciar fare è dieci volte più pericoloso che fare mi capisci? lottava con se stessa in dubbio se descrivere più esattamente il suo pensiero ma poi aggiunse tu mi capisci benissimo no? caro è vero che dici sempre che bisogna lasciare andare ogni cosa per la sua china ma io so quello che tu intendi mi sono già chiesto più di una volta se tu non sia il diavolo quella frase l'era di nuovo sfuggita di bocca come una lucertola e la ne fu sgomenta da principio aveva solo pensato al desiderio di Walter di avere un bambino il suo amico vide un baleno negli occhi che lo guardavano bramosi ma il volto proteso di Clarisse era come inondato di qualcosa non qualcosa di bello ma qualcosa fra il brutto e il commovente come un'ondata di sudore che cancella le linee del viso ma era incorporeo puramente immaginario egli si sentì contagiato contro voglia e rapito in una leggera assenza mentale non poteva più opporre una valida resistenza a quei discorsi insensati e infine prese Clarisse per mano la condusse al sofà e le sedette accanto adesso ti dirò perché non faccio nulla incominciò e tacque Clarisse che nell'istante del contatto aveva ritrovato se stessa gli fece animo non si può far nulla perché ma tu non lo puoi capire egli si interruppe prese una sigaretta e si dedicò ad accenderla ebbene lo incoraggiò Clarisse che cosa vuoi dire ma lui rimase in silenzio allora ella gli mise un braccio dietro la schiena e lo scrollò come un ragazzo che vuol dimostrare la sua forza era un tratto grazioso in lei che non ci fosse bisogno di dire niente e bastasse il gesto fuori dell'ordinario per trasportarla nell'immaginario sei un gran delinquente e la esclamò e cercò in vano di fargli male in quel momento però furono sgradevolmente interrotti dal ritorno di Walter 83 le stesse cose ritornano ovvero perché non si inventa la storia in fondo che cosa avrebbe potuto dire Ulrich a Clarisse era rimasto muto perché lei gli aveva fatto venire una strana voglia di pronunciare il nome di Dio aveva voluto dire così pressa poco Dio non intende che si prenda il mondo alla lettera il mondo è un'immagine un'analogia un modo di dire del quale egli deve servirsi per un motivo qualunque e naturalmente è sempre approssimativo non dobbiamo prenderlo in parola tocca a noi stessi trovare lo scioglimento del quesito che gli ci impone si domandò se Clarisse avrebbe consentito a considerarlo un giocatore agli indiani o a guardie ladri certo se qualcuno le faceva strada e là gli si sarebbe stretta al fianco come una lupa agguzzando gli occhi ma Uri era stato lì per dire altro parlare dei problemi matematici che non consentono una soluzione generale ma piuttosto soluzioni singole che combinate si avvicinano alla soluzione generale avrebbe potuto aggiungere che tale gli appariva anche il problema della vita umana ciò che si suole chiamare un periodo senza sapere se si debba intendere secoli millenni o gli anni fra la scuola e i nipotini quell'ampia disordinata fiumana di situazioni sarebbe allora un susseguirsi a casaccia di tentativi di soluzione insufficienti e se presi singolarmente anche sbagliati dai quali se l'umanità li sapesse riassumere potrebbe infine risultare la soluzione esatta e totale ci ripensò tornando a casa in tram c'era qualche altro passeggero nel carrozzone che andava verso il centro ed egli di fronte a loro si vergognò un poco dei suoi pensieri si vedeva che ritornavano da occupazioni ben definite o si recavano ben definiti divertimenti e il loro vestire rivelava la loro provenienza e la loro meta egli guardò la sua vicina era certamente moglie e madre circa quarantenne probabilmente consorte di un impiegato e aveva in grembo un piccolo cannocchiale da teatro accanto a lei Ulrich faceva l'effetto di un ragazzo che gioca un gioco anzi non del tutto onesto infatti un pensiero che non ha uno scopo pratico è un'occupazione segreta un poco indecente soprattutto poi quei pensieri che fanno passi mostruosi sui trampoli e toccano l'esperienza solo con minuscole suole suggeriscono il sospetto di un'origine irregolare una volta sì si parlava del volo dei pensieri e ai tempi di Schiller un uomo con simili fiere domande nel petto sarebbe stato molto stimato oggi invece si ha l'impressione che un uomo così abbia qualcosa fuori di posto a meno che quello non sia il suo mestiere e la sua fonte di guadagno oggi le cose sono ripartite altrimenti certi interrogativi sono stati tolti dal cuore degli uomini i pensieri sublimi hanno creato qualcosa come degli stabilimenti di policultura che si chiamano letteratura filosofia o teologia e là i pensieri si riproducono a modo loro senza controllo il che va benissimo perché con una tale proliferazione nessuno si rimprovera più di non occuparsene personalmente Ulrich nel suo rispetto per la competenza e la specializzazione era risoluto in fondo a nulla obiettare contro quella divisione delle inconvenze tuttavia a se stesso permetteva ancora di pensare quantunque non fosse un filosofo di professione e intanto si figurava come tutto ciò avrebbe portato a un'organizzazione statale sul tipo di un alveare la regina farà le uova i fucchi condurranno una vita dedicata al piacere e al pensiero e gli specialisti lavoreranno anche un'umanità così organizzata è pensabile forse anche la somma totale di lavoro risulterebbe accresciuta per adesso ogni individuo ha ancora in un certo senso tutta l'umanità dentro di sé ma è chiaro che ormai è troppo e non va più bene cosicché l'umano è quasi diventato un'autentica frode forse sarebbe garanzia di successo dare nuove disposizioni nell'assegnazione delle parti perché in uno speciale di quei gruppi di lavoratori avvenga anche una nuova sintesi spirituale senza lo spirito infatti Ulrich voleva dire che non ci avrebbe provato gusto ma era un pregiudizio naturalmente non si sa da che cosa dipenda il successo si raddrizzò sul sedile e per distrarsi osservò il proprio volto nel finestrino di fronte ma dopo un po' la sua testa oscillava con strana insistenza nel vetro liquido fra il dentro e il fuori e chiedeva di essere reintegrata si faceva la guerra nei Balcani sì o no un intervento c'era senz'altro ma se fosse vera guerra egli non sapeva dire tante cose agitavano l'umanità un nuovo primato di volo in altezza era stato conseguito una prova splendida salvo errore il record era adesso di 3700 metri e l'uomo si chiamava Juju un pugile negro aveva abbattuto l'avversario bianco conquistando il campionato del mondo si chiamava Johnson il presidente francese partiva per la Russia si temeva che la pace mondiale fosse minacciata un tenore scoperto di recente guadagnava nell'America del sud somme inaudite anche per l'America del nord un terremoto spaventoso aveva colpito il Giappone poveri giapponesi insomma gli avvenimenti si susseguivano era un periodo agitato quello intorno alla fine del 1913 e al principio del 1914 anche i due o tre anni prima erano stati ricchi di eventi ogni giorno aveva portato le sue commozioni eppure ci si ricordava vagamente o addirittura non ci si ricordava affatto di che cosa mai si era trattato si poteva abbreviare il nuovo rimedio contro la lue fa nelle ricerche sul metabolismo vegetale ci sono la conquista del polo sud sembra gli esperimenti di Steinbach suscitano in quel modo si poteva benissimo tralasciare metà delle precisazioni senza inconvenienti che strana faccenda è mai la storia si poteva affermare con sicurezza che questo o quell'avvenimento faceva già o avrebbe certo fatto parte della storia se quell'avvenimento però avesse veramente avuto luogo non lo si sapeva perché l'aver luogo implica che qualcosa abbia avuto luogo in un dato anno e non in un altro oppure mai ed è anche necessario che l'avvenimento sia proprio quello e non soltanto qualcosa di simile o di equivalente ma questo è appunto ciò che nessuno può dire della storia a meno che l'abbia scritto come si fa sui giornali o che si tratti di questioni professionali o finanziarie perché si sa che è importante stabilire fra quanti anni si avrà diritto alla pensione o si possiederà una certa somma e sotto quell'aspetto anche le guerre possono diventare date memorabili è malsicura e intricata la nostra storia vista da vicino come una palude solo prosciugata a metà e poi c'è il fatto curioso che è percorsa da un cammino per l'appunto il cammino della storia che nessuno sa da dove venga questo servire di materiale alla storia mise Ulrich fuori dai gangheri la scatola luminosa ed ondolante entro cui viaggiava gli sembrò una macchina nella quale alcune centinaia di chilogrammi di umanità venissero rimescolati per far di loro l'avvenire cent'anni fa sedevano nelle carrozze di posta con la stessa espressione sul viso e fra cent'anni sai Dio come saranno sistemati ma certo siederanno allo stesso modo in qualche veicolo del futuro Ulrich ne ebbe la rivelazione e si sentì ribollire il sangue contro l'accettazione inerme di fatti e di mutamenti la rassegnata contemporaneità il balordo e paziente andare coi secoli che infine è indegno dell'uomo ed era proprio come se egli improvvisamente si fosse ribellato contro il cappello di forma abbastanza strana che portava in capo macchinalmente si alzò e fece a piedi il resto del cammino in quel più vasto serbatoio di uomini che era la città il suo malessere tornò a trasformarsi in buon umore che idea pazza quella della piccola Clarisse di voler celebrare l'anno dello spirito egli si concentrò su quel punto perché era così assurdo d'altronde ci si poteva chiedere con altrettanta ragione perché era così assurdo il movimento patriottico di Diotima risposta numero uno perché senza dubbio la storia del mondo nasce esattamente come tutte le altre storie agli autori non viene in mente nulla di nuovo e copiano gli uni dagli altri questo è il motivo per cui tutti gli uomini politici studiano la storia invece della biologia o di qualcos'altro questo per quanto riguarda gli autori numero due in gran parte però la storia nasce anche senza autori non dal centro insomma ma dalla periferia per tante piccole ragioni probabilmente non ci vuole tutto quel che si crede per fare dell'uomo gotico o del greco antico l'uomo civile moderno perché la natura è altrettanto idonea all'antropofagia quanto alla critica della ragion pura con le stesse convinzioni e qualità può inventare tanto l'una che l'altra in circostanze adatte e a grandissime differenze esterne corrispondono nella fattispecie piccolissime differenze interne digressione prima Ulrich ricordava un'esperienza analoga al tempo del servizio militare gli uomini dello squadrone cavalcano a due a due e si ripete l'esercitazione trasmettere un ordine che consiste nel susseguirsi di orecchio in orecchio di un ordine dato a bassa voce se in testa si comanda il sergente preceda la colonna in coda ne viene fuori otto uomini siano fucilati o qualcosa di simile nello stesso modo si fa la storia risposta numero 3 se quindi si trasportasse una generazione di europei contemporanei in tenerissima età nell'era Egizia 5.000 anni avanti Cristo e la si lasciasse là la storia ricomincerebbe da capo all'anno 5.000 avanti Cristo per un po' in principio si ripeterebbe e poi per ragioni che nessuno può individuare prenderebbe pian piano a deviare digressione seconda la legge della storia gli venne in mente non è altro che il principio statale del tira a campare nella vecchia cacania la cacania era un paese straordinariamente saggio digressione terza o risposta quarta il cammino della storia dunque non è quello di una palla da biliardo che una volta partita segue una certa traiettoria ma somiglia al cammino di una nuvola a quello di chi va bighellonando per le strade e qui è sviato da un'ombra là da un gruppo di persone o da uno strano taglio di facciate e giunge infine in un luogo che non conosceva e dove non desiderava andare l'andamento della storia è un continuo sbandamento il presente è sempre un'ultima casa al margine che in qualche modo non fa più completamente parte delle case della città ogni generazione si chiede stupita chi sono io e chi erano i miei antecessori avrebbe meglio a chiedersi dove sono io e a tener per sicuro che gli antecessori non erano così o cosà ma semplicemente in un altro luogo e ci avrebbero già guadagnato qualcosa pensava Ulrich lui stesso aveva numerato in quel modo le sue risposte e digressioni mentre guardava il volto di un passante o la vetrina di un negozio per non lasciarsi fuggir via i pensieri ma ora però si era un po' sviato e dovette fermarsi un momento per capire dov'era e trovare la strada più breve per rincasare prima di prenderla si sforzò di porsi ancora una volta il quesito con estrema esattezza quella pazzarella di Clarisse aveva dunque ragione bisognava fare la storia bisognava inventarla anche se lui l'aveva contraddetta ma perché lo si fa? in quel momento cercando una risposta non gli venne in mente altro che il direttore della Lloyd Bank il suo amico Leo Fischel col quale talvolta d'estate era stato a chiacchierare in un caffè all'aperto se questo invece di un monologo fosse stato un dialogo con lui Fischel avrebbe risposto come soleva vorrei averli io i suoi fastidi Ulrich si sentì grato per quell'ipotetica risposta rinfrancante caro Fischel replicò subito mentalmente la cosa non è tanto semplice io dico storia ma intendo se lei ben ricorda la nostra vita e ho ammesso fin da principio che è scandalosa la mia domanda perché l'uomo non fa la storia cioè perché interviene attivamente nella storia solo come una bestia quando è ferito quando ha il fuoco alle spalle perché insomma fa la storia solo in caso di estrema necessità dunque perché questo ci scandalizza che cosa abbiamo in contrario sebbene voglia dire all'incirca che l'uomo non dovrebbe lasciare andare la vita umana così come va si sa bene avrebbe ribattuto il dottor Fischel come questo avviene bisogna già essere contenti quando i politicanti e i preti e i grandi uomini che non hanno niente da fare e tutti gli altri che vanno attorno con un'idea fissa in capo non turbano la vita quotidiana e del resto c'è la cultura se almeno non ci fossero oggi tanti che si comportano da incolti certo il dottor Fischel ha ragione bisogna accontentarci di essere abbastanza pratici di pollizze e di cambiali e che gli altri non ficchino troppo il naso nella storia con la scusa che se ne intendono sarebbe impossibile di occhi scampi vivere senza idee ma il meglio è un certo equilibrio fra di esse un balance of power una pace armata delle idee in modo che da nessuna parte possa accadere gran cosa lui come sedativo aveva la cultura è un sentimento fondamentale della civiltà esiste però anche il sentimento opposto e si rafforza ogni giorno che i tempi della storia eroico-politica fatta dal caso e dai suoi campioni siano in parte sorpassati e debbano essere sostituiti da una soluzione meditata e programmatica a cui cooperino tutti gli interessati e in quel momento finì l'anno di Ulrich perché Ulrich era arrivato a casa 84 si sostiene che anche la vita comune è di natura utopistica a casa trovò il solito mucchio di corrispondenza inviata dal conte Leinsdorf un industriale aveva istituito un premio eccezionalmente alto per la miglior prova fornita dall'educazione militare presso la gioventù borghese la curia arcivescovile esaminava il progetto di erigere un grande orfanatrofio e dichiarava di dover fare ampie riserve contro ogni promiscuità confessionale il comitato per il culto e l'istruzione riferiva sul successo della proposta momentaneamente definitiva di elevare un grandioso monumento nei dintorni della capitale all'imperatore della pace e dei popoli austro-ungarici dopo prese il contatto con l'imperial regio ministero dell'istruzione del culto e dopo consultazioni con i principali circoli artistici e con le associazioni di ingegneri e di architetti erano risultate tali divergenze di idee che il comitato si era visto costretto a bandire senza pregiudizio di eccedenze che fossero per sorgere più tardi nel caso che il comitato centrale approvasse un concorso per la miglior proposta di un concorso per il monumento da erigersi dopo tre settimane la cancelleria di corte rimandava al comitato centrale avendone preso visione i progetti sottoposti e dichiarava di non poter presentemente comunicare la sovrana volontà ma di ritener desiderabile che anche su quel punto si lasciasse libero corso al formarsi di una pubblica opinione l'imperial regio ministero dell'istruzione e del culto nel dispaccio numero tale iviemesso dichiarava di non potersi pronunciare in favore di uno speciale incoraggiamento al sistema di stenografia la lega per la salute del popolo quella delle lettere con tante barre faceva sfoggio di cultura e chiedeva una sovvenzione e così via Ulrich spinse in là quell'involto di mondo reale e meditò un poco a un tratto si alzò si fece dare cappello e sopravvito e disse che sarebbe tornato fra un'ora o due chiamò una carrozza e tornò da Clarisse ormai era sera la casa gettava un po' di luce sulla strada da una sola finestra le pedate della neve formavano buchi gelati dove si inciampava il portone era chiuso e il visitatore non era atteso cosicché pattiti picchi e chiamate rimasero molto a lungo inascoltati quando Ulrich finalmente entrò nella stanza non sembrava più la stanza lasciata da poco ma un mondo estraneo sorpreso con una tavola parecchiata per la semplice riunione di due persone sedie su cui erano posti oggetti che ci stavano a loro agio e pareti che si schiudevano all'intruso con una tal quale riluttanza Clarisse indossava una vestaglia semplice di lana e rideva Walter che era sceso a introdurre il visitatore tardivo sbattendo le palpebre ripose in un cassetto la grossa chiave del portone Ulrich disse senza preamboli sono tornato perché ero ancora debitore di una risposta a Clarisse poi cominciò a metà dove la conversazione era stata interrotta da Walter poco dopo la stanza la casa il senso del tempo erano scomparsi e il discorso fluppava lassù nello spazio azzurro fra le stelle Ulrich sviluppava il programma di vivere la storia delle idee invece che la storia del mondo la differenza che gli premise sarebbe stata meno nell'avvenimento che nel significato ad esso attribuito nell'intenzione ad esso collegato nel sistema in cui il singolo avvenimento sarebbe stato inserito il sistema ora vigente era quello della realtà e si poteva paragonare a una commedia scadente non per nulla si suol dire la scena del mondo infatti nella vita si ripetono sempre le stesse parti gli stessi intrighi le stesse favole si ama perché c'è l'amore e come vuole l'amore sia fiali come gli indiani gli spagnoli le vergine o il leone e il 90 casi su 100 si uccide soltanto perché lo si ritiene tragico o grandioso i fortunati modellatori politici della realtà tolte le grandissime eccezioni hanno molto in comune con gli scrittori di commedia da cassetta le vicende movimentate che essi producono sono noiose per la mancanza di spirito e di originalità ma appunto perciò ci mettono in quello stato di apatia e di sonnolenza in cui subiamo qualunque cambiamento considerata così la storia nasce dalla routine spirituale e dall'indifferenza e la realtà nasce principalmente dal fatto che non si fa niente per le idee si potrebbe riassumere brevemente così e gli disse che noi ci interessiamo troppo poco di quello che accade ma troppo della persona alla quale del luogo dove e del tempo in cui la cosa accade di modo che non lo spirito dell'avvenimento ci importa ma la sua favola non il rivelarsi di un nuovo contenuto della vita il che corrisponde proprio alla differenza tra le belle commedie e le commedie che hanno solamente successo ma da questo risulta proprio il contrario che si dovrebbe prima di tutto smettere l'atteggiamento di cupidigia personale di fronte alle vicende della vita bisognerebbe cioè considerarle meno come personali e reali e più come generali e pensate oppure considerarle con tanto personale di stacco come se fossero dipinte o cantate non si dovrebbe piegarle verso se stessi ma verso l'alto o verso l'esterno e se ciò venisse applicato personalmente occorrerebbe inoltre far qualcosa in senso collettivo qualcosa che Ulrich non sapeva bene spiegare e definiva una specie di ammostature svinatura e buttatura del succo spirituale senza che il singolo però potesse sentirsi impotente e abbandonato al proprio capriccio e mentre parlava così gli tornò in mente il momento in cui aveva detto adiotima che bisognava abolire la realtà come era da aspettarsi Walter a tutta prima dichiarò che l'affermazione era banalissima come se tutto il mondo arte letteratura scienza religione non fossero svinatura e imbottatura come se una qualsiasi persona colta potesse mettere in dubbio il valore delle idee e non pregiare la bellezza lo spirito la bontà come se tutta l'educazione fosse altro che l'inserimento in un sistema spirituale Ulrich spiegò che l'educazione era soltanto un inserimento nel presente e vigente che ha origine da misure non prestabilite e quindi per acquistare spirito bisognava prima di tutto essere convinti di non averne egli chiamava questo avere un animo aperto incline agli esperimenti morali in grande e alla poesia Walter protestò che l'affermazione era assurda dici per picca come se noi avessimo la scelta tra il vivere le idee e il vivere la nostra vita ma forse conosci il famoso verso non sono un libro sottilizzante sono un uomo con la sua contraddizione perché non vai ancora più in là perché non pretende addirittura che per amor delle idee si abolisca la pancia io invece ti rispondo l'uomo è fatto di vile materia che noi stendiamo abbassiamo le braccia che non sappiamo se volgerci a destra o a sinistra che siamo fatti di abitudini di pregiudizi e di polvere e tuttavia avanziamo secondo le nostre forze per la nostra strada qui sta appunto l'umano se che basta misurare col metro della realtà quello che tu affermi e si vede che è tutta il più letteratura Ulrich concesse se mi permette di comprendervi anche tutte le altre arti dottrine religioni eccetera allora faccio mia l'affermazione che la nostra vita dovrebbe essere tutta e soltanto letteratura come la carità del redentore e le guerre di Napoleone secondo te sono letteratura esclamò Walter ma poi gli venne in mente qualcosa di meglio si voltò verso l'amico con la pacatezza di chi ha una buona carta in mano e dichiarò tu sei l'uomo che dichiara che la verdura in scatola è il vero senso della verdura fresca hai certamente ragione potresti anche dire che sono uno che vuoi cucinare con sale soltanto ammise Ulrich tranquillamente non ne voleva più parlare ma Clarisse intervenne apostrofando Walter non so perché lo contraddici tu stesso quando accadeva a noi qualcosa di eccezionale non hai detto più volte questo bisognerebbe rappresentarlo in teatro davanti a tutti per obbligarli a vedere e a capire bisognerebbe cantare anzi soggiunse rivolta ad Ulrich cantare se stessi era alzata ed era entrata nel piccolo cerchio formato dalle seggiole il suo atteggiamento era una rappresentazione un po' goffa dei suoi desideri come se stesse per eseguire una danza ed Ulrich che era sensibile a certi antiestetici denudamenti morali si ricordò in quel momento che la maggior parte della gente cioè a dirla schietta la gente mediocre il cui spirito è eccitato ma incapace di creare ha quel desiderio di potersi descrivere sono gli stessi a cui così facilmente avvengono cose inesprimibili e la loro espressione favorita è lo sfondo nebuloso su cui ciò che essi esprimono appare ingrandito e sfocato cosicché non ne riconoscono mai il giusto valore per farla finita gli disse non volevo dire questo ma Clarisse ha ragione il teatro dimostra che stati intensi di personali esperienze possono servire a uno scopo impersonale un contesto di significati e di immagini che li separa in parte dalla persona io capisco benissimo Ulrich interloqui di nuovo Clarisse non ricordo che nulla abbia mai suscitato in me una gioia particolare perché era accaduta a me personalmente bastava che accadesse anche la musica non vuoi mica averla per te disse rivolta al marito essa da gioia solo perché esiste si traggono a sé le esperienze e poi con lo stesso tratto si tornano a sparpagliare io voglio me stessa ma non mi voglio bottegaia di me stessa Walter si portò le mani alle tempie ma per amor di Clarisse passò a una nuova confutazione si sforzò di mettere fuori le parole come un getto limpido e freddo se tu poni il valore di una condotta solo nell'emanazione di forze spirituali obiettò a Ulrich vorrei farti una domanda ciò ne è vero sarebbe possibile solo in una vita che avesse per scopo esclusivo la produzione di forze e poteri spirituali è la vita a cui asseriscono di tendere tutti gli stati del mondo ribatte Ulrich in uno stato così fatto gli uomini vivrebbero dunque secondo le grandi idee e i grandi sentimenti secondo filosofia e romanzi proseguì Walter continuo a chiederti vivrebbero in modo da produrre la grande filosofia e la grande poesia oppure tutta la loro vita sarebbe già se così si può dire filosofia e poesia in carne ed ossa non dubito della tua risposta perché il primo modo è semplicemente quello che si intende oggi per una nazione civile ma se tu intendi il secondo non rifletti che filosofia e poesia sarebbero colà molto superflue anche prescindendo dal fatto che quel può vivere secondo l'arte o come lo vuoi chiamare non è assolutamente immaginabile non significa altro che la fine dell'arte così concluse e riguardo a Clarisse giocò la sua carta con energia ottenne l'effetto persino Ulrich ebbe bisogno di qualche momento per ricomporsi ma poi rise e replicò come non sai che ogni forma di vita perfetta sarebbe la fine dell'arte non sei tu stesso avviato a farla finita con l'arte per la perfezione della tua vita l'intenzione non era maligna ma Clarisse tese gli orecchi e Ulrich seguitò ogni grande libro spira questo amore per i destini dei singoli individui che non si adattano alle forme che la collettività vuol loro imporre ciò porta a risoluzioni che non si lasciano risolvere e di costoro si può soltanto riprodurre la vita e sta il senso da tutte le opere poetiche e ne richeverai una smentita interminabile incompleta ma esemplificata e fondata sull'esperienza di tutte le norme le regole e i principi vigenti sui quali posa la società che ama tali poesie per di più una poesia col suo mistero trafigge da parte a parte il senso del mondo attaccato a migliaia di parole triviali e ne fa un pallone e se ne vola via se questo come costume si chiama bellezza allora la bellezza dovrebbe essere uno sconvolgimento mille volte più crudele e spietato di qualunque rivoluzione politica Walter si era sbiadito fin nelle labbra odiava quel concetto dell'arte come negazione della vita come opposizione alla vita ai suoi occhi era bohem residuo di un desiderio antiquato di irritare il borghese notò l'ironica verità che in un mondo perfetto non ci può essere bellezza perché diventa inutile ma non udì la domanda inespressa dall'amico perché l'unilateralità dell'affermazione era chiara anche per Ulrich avrebbe potuto benissimo sostenere anche il contrario che l'arte è negazione perché l'arte è amore in quanto ama conferisce bellezza e forse non c'è altra maniera in questo mondo di rendere bella una creatura una cosa che amarla e solo perché anche il nostro amore non è fatto che di frammenti la bellezza è qualcosa come gradazione e contrasto e soltanto nel mare dell'amore l'idea non più graduabile della perfezione e quella fondata sulla gradazione della bellezza sono una cosa sola di nuovo i pensieri di Ulrich avevano sfiorato il regno ed egli si arrestò disgustato anche Walter intanto si era ricomposto e dopo aver dichiarato prima ad Ozzinale e poi impossibile l'idea dell'amico che si dovrebbe vivere all'incirca così come si legge era passato a dimostrarla peccaminosa e infame se un uomo incominciò con lo stesso tono artificioso e rattenuto di prima prendesse al solo fondamento della sua vita la tua proposta dovrebbe per tacere di tutte le altre impossibilità consentire a tutto ciò che una bella idea gli suggerisce a tutto ciò che porta in sé la possibilità di essere preso per una bella idea naturalmente questo porterebbe a una decadenza generale ma siccome questo lato suppongo ti è indifferente oppure forse tu pensi a quelle tue vaghe misure non prestabilite di cui non hai detto nulla di preciso vorrai solo qualche schiarimento sulle conseguenze personali secondo me quell'individuo a meno che non sia per l'appunto il poeta della propria vita starà peggio di un animale se non gli viene in mente nessuna idea non gli viene nemmeno in mente una risoluzione per la maggior parte della vita egli sarà in balia dei suoi istinti dei suoi capricci delle solite passioni di tutti cioè di quanto vedi più impersonale nell'uomo e dovrebbe per così dire finché dura l'ostruzione della conduttura superiore abbandonarsi risolutamente all'impulso dovrebbe astenersi dal fare qualsiasi cosa rispose Clarisse invece di Ulrich questa è la passività attiva di cui bisogna essere capaci in certe circostanze Walter non ebbe il coraggio di guardarla la capacità di ricusarsi contava molto fra loro Clarisse simile a un'angeletta nella lunga camicia da notte che la copriva fino ai piedi stava ritta sul letto e declamava con denti lampeggianti citando liberamente Danice come mio scandaglio gli oggetto il quesito nell'anima tua tu aspiri alle nozze e al figlio ma io ti chiedo sei tu l'uomo a cui è recito desiderare un figlio sei tu il vittorioso il padrone delle tue virtù oppure parlano in te la bestia e il bisogno nella penombra della camera da letto ella era veramente sinistra mentre Walter cercava in vano di attirarla giù sui cuscini e adesso disponeva anche di una formula nuova la passività attiva di cui in certi casi bisognava essere capaci questo sapeva proprio di uomo senza qualità dunque Clarisse gli si confidava era lui alla fine che la rafforzava nelle sue stranezze quelle domande si torcevano come vermi nel petto di Walter ed egli fu sul punto di sentirsi male il suo volto divenne sinerio e tutta la tensione ne cadde così che apparve svigorito e grinzoso Ulrich lo vide e gli chiese premurosamente che cosa avesse nulla disse Walter con sforzo e poi lo invitò sorridendo beffardo a concludere il suo assurdo discorso dio mio ammise Ulrich corrivo non hai mica torto ma molto spesso per spirito sportivo noi giudichiamo con indulgenza azioni che ci danneggiano pur che l'avversario le abbia compiute leggiadramente il valore dell'esecuzione rivaleggia allora con il valore del danno sovente poi abbiamo anche un'idea e per un poco operiamo in conformità ad essa ma ben presto subentrano ostinazione abitudine vantaggio e suggestione perché è inevitabile sì che io in fondo ho forse descritto una condizione che non si può assolutamente portare sino alla fine ma una cosa che non si può negare è in tutto e per tutto la condizione attuale in cui viviamo Walter si era di nuovo calmato se si rovescia la verità si può sempre dire qualcosa che è tanto vero quanto falso disse dolcemente senza nascondere che il prolungamento della discussione non lo interessava più è proprio da te asserire che una cosa è impossibile ma vera ma Clarisse si strofinò energicamente il naso mi sembra molto importante opinò che in noi tutti ci sia qualcosa di impossibile spiega tante cose mentre ascoltavo ho avuto l'impressione che si potesse sezionarci forse tutta la nostra vita avrebbe l'aspetto di un anello forse tutta la nostra vita avrebbe l'aspetto di un anello così che gira intorno a qualcosa si era tolta la fede dal dito e guardava attraverso il cerchietto la parte illuminata voglio dire che l'anello nel centro non ha nulla eppure sembra che per lui sia proprio il centro che conta nel resto nemmeno Ulrich saprebbe esprimerlo perfettamente così purtroppo anche quella discussione finì con un dolore per Walter 85 le fatiche del generale Stum per mettere un po' d'ordine nei cervelli borghesi Ulrich era rimasto fuori un'ora circa più di quel che aveva detto uscendo e quando tornò lo avvisarono che un ufficiale lo aspettava da parecchio tempo di sopra trovò con suo stupore il generale Stum che lo salutò con la cordialità di un vecchio camerata caro amico esclamò Stum muovendogli incontro devi scusarmi se ti capito addosso così tardi ma non potevo lasciar prima l'ufficio e del resto sono già qui da due ore in mezzo a questa tua raccolta di libri che mette quasi paura dopo qualche scambio di cortesia risultò che Stum era venuto per un'urgente richiesta aveva cavalcato una gamba sull'altra con aria intraprendente cosa che data la sua bassa statura gli costava un po' di fatica tese il brazzo con la piccola mano e spiegò urgente io dico sempre ai miei referendari quando mi portano un documento che preme non c'è nulla al mondo di urgente tranne le andate in un certo luogo ma lasciando da parte gli scherzi quella che mi conduce qui è una faccenda di sommo rilievo ti ho già detto che la casa di tua cugina è per me un'eccezionale occasione di conoscere le più importanti questioni del mondo borghese finalmente qualcosa di non militare e ti assicuro che mi fa un'impressione colossale ma d'altra parte noi militari anche se abbiamo i nostri punti deboli non siamo affatto così stupidi come generalmente si crede vorrai convenire spero che quando facciamo qualcosa lo facciamo con ordine e fino in fondo ne convieni bene ne ero certo e dunque posso parlare francamente con te se ti confesso tuttavia che io mi vergogno del nostro spirito militaristico mi vergogno ho detto insieme al vescovo Castrense io sono oggi in tutto l'esercito l'uomo che ha maggiormente a che fare con lo spirito ma posso dirti che a ben considerare il nostro spirito militare si vede che esso per quanto ottimo pare un rapporto mattutino voglio sperare che ti ricordi ancora cos'è dunque è vero l'ufficiale di ispezione scrive tanti uomini sono presenti e tanti cavalli tanti sono assenti ammalati e simili nulla notizio è rimasto fuori oltre l'ora del permesso e via discorrendo ma per quale ragione i cavalli o gli uomini sono assenti malati eccetera nel rapporto non lo si scrive ed è proprio quello che bisognerebbe sapere quando si ha da fare con i signori borghesi il discorso del soldato è breve semplice tutto cose ma spesso io devo conferire con funzionari dei ministeri civili e quelli chiedono ad ogni occasione il perché delle mie proposte e si appellano a considerazioni e interdipendenze d'ordine superiore allora io ho suggerito al mio capo su eccellenza frost mi devi dare la parola d'onore che quanto dico rimane fra noi o piuttosto gli voglio fare la sorpresa di sfruttare l'occasione in casa di tua cugina per entrare una buona volta in dimestichezza con queste considerazioni e interdipendenze d'ordine superiore e se così posso dire senza essere immodesto attirarle nell'orbita dello spirito militare in fin dei conti abbiamo nell'esercito medici veterinari farmacisti cappellani giudici intendenti ingegneri e direttori d'orchestra ma un ufficio centrale per lo spirito borghese non c'è ancora solo allora Ulrichs accorse che Stum von Prodwer s'era portato dietro una borsa d'ufficio e l'aveva appoggiata ai piedi della scrivania era uno di quei grandi zaini di vitello che si possono portare sulle spalle mediante solide correzze che servono a trasportare documenti da un ufficio all'altro nei vasti edifici ministeriali e anche fuori evidentemente il generale era venuto con un attendente che aspettava sotto e che Ulrich non aveva veduto perché solo con fatica si tirò sulle ginocchia la pesante borsa e fece scattare la piccola serratura d'acciaio che aveva tutta l'aria di un ordigno di guerra non sono rimasto in ozio da quando assisto alle vostre riunioni sorrise mentre la sua giubba celeste si tendeva nella posizione curva intorno ai bottoni dorati ma sai ci sono cose di cui non vengo a capo tirò fuori dalla borsa un gran fascio di fogli sciolti coperti di strani segni tua cugina e gli spiegò ho avuto con lei un colloquio esauriente e la vorrebbe giustamente che dai suoi sforzi per elevare al nostro eccesso sovrano un monumento spirituale emergesse un'idea che fosse come dire la più alta che occupasse il primo posto fra tutte le idee del giorno d'oggi io però ho osservato pur ammirando le personalità da lei invitate che la cosa presenta infernali difficoltà se uno dice una cosa l'altro afferma il contrario l'hai notato anche tu ma c'è di peggio secondo me lo spirito borghese mi sembra proprio ciò che noi diciamo di certi cavalli un cattivo mangiatore ti ricordi sono bestie che non vogliono saperne ed ingrassare nemmeno con doppia razione di foraggio oppure diciamo si corresse a una lieve protesta del padrone di casa si diciamo pure che ingrassino ma le ossa non crescono e la pelle rimane opaca gli viene soltanto un pancione pieno d'erba ecco vedi la cosa mi interessa e vorrei approfondire la questione come mai non si possa regolare la faccenda Stum sorridendo forse al suo ex tenente il primo dei fogli si dica pure tutto ciò che si vuole dichiarò ma di ordine noi militari ce ne intendiamo ecco qui ho consegnato le idee principali esposte dai partecipanti alle riunioni di tua cugina vedi se gli parli a quattro occhi ciascuno ritiene essenziale una cosa diversa urr esaminò il foglio con stupefazione era diviso in quadrati mediante linee orizzontali e verticali come un foglio ad anagrafe o un registro militare e nei quadrati c'erano parole che contrastavano parecchio con quella suddivisione infatti gli lesse in vai caratteri burocratici i nomi Gesù Cristo Buddha Gotam o anche Siddharta Lao Tse Lutero Martino Goethe Wolfango Ganghofer Ludovico Chamberlain e molti altri che evidentemente continuavano su un altro foglio poi nella seconda casella le parole cristianesimo imperialismo secolo delle comunicazioni eccetera e accanto erano altre colonne di parole in altre caselle potrei anche chiamarlo il foglio catastale della cultura moderna illustrò il generale perché noi l'abbiamo ampliato e ora contiene il nome delle idee e dei loro agitatori dell'ultimo venticinquennio non immaginavo che costasse tanta fatica poiché Ulrich voleva sapere come era stato compilato l'elenco gli spiegò volentieri il procedimento da lui ideato e ci sono voluti un capitano due tenenti e cinque sotto ufficiali per fare così presto se avessimo potuto usare un sistema del tutto moderno avremmo mandato a ogni reggimento la domanda chi considerate il più grande uomo dei nostri tempi come fanno oggi i giornali e simili sai insieme con l'ordine di comunicare il risultato della votazione con le percentuali ma nel mondo militare la cosa non andava perché naturalmente nessun corpo dell'esercito può rispondere altro che sua maestà allora avevo pensato di far chiedere quali sono i libri più letti e con le più alte tirature ma si è visto subito che oltre alla Bibbia sono i libriccini di Capodanno con le tariffe postali e le vecchie barzellette distribuite a tutti dai portalettere che vanno a fare gli auguri e a riscuotere la mancia e questo ci ha fatto di nuovo riflettere com'è difficile lo spirito borghese perché in generale sono ritenuti migliori di quei libri che si adattano ad ogni lettore o almeno mi hanno detto bisogna che un autore in Germania abbia molti che la pensano come lui per essere considerato un grande ingegno dunque anche questa via non era possibile e come abbiamo finito per fare non te lo posso dire sul momento è stata un'idea del caporale Hirsch insieme col tenente Melisciar ma ci siamo riusciti il generale Stum posò il foglio il generale Stum posò il foglio e con un viso che annunziava una grande delusione ne preso un altro fatto l'inventario delle scorte di idee esistenti nell'Europa centrale aveva non solo stabilito con rincrescimento che erano costituite da contraddizioni ma anche scoperto con stupore che quelle contraddizioni incominciavano a confondersi l'una nell'altra che tutte le celebrità in casa di tua cugina mi rispondessero cose opposte quando le pregavo di ammaestrarmi passi ero già abituato ma che dopo aver parlato lungamente con loro mi sembri che dicano tuttavia le stesse cose ecco non riesco proprio ad intenderlo e forse la colpa sarà del mio comprendonio d'ordinanza che non ci arriva ciò che sgomentava in tal modo il cervello del generale Stum non era una bagatella e in fondo non la si sarebbe dovuta attribuire soltanto al ministero della guerra benché si potesse dimostrare che con la guerra intratteneva ottimi rapporti sono state donate a questo secolo grandi idee in quantità e per uno speciale favore della sorte ogni idea ha pure la sua contro idea di modo che individualismo e collettivismo nazionalismo e internazionalismo socialismo e capitalismo imperialismo e pacifismo razionalismo e superstizione vi si trovano tutti ugualmente bene come a casa loro e per giunta ci sono anche i resti non ancora consumati di innumerevoli altre contraddizioni di uguale o minore valore attuale la cosa sembra così naturale come il fatto che vi siano il giorno e la notte il caldo e il freddo l'amore e l'odio e che nel corpo umano ogni minuscolo flessore abbia il suo contrario in un muscolo estensore nel generale Stum come chiunque altro si sarebbe mai sognato di vederci nulla di straordinario se l'amore per Diotima stimolando la sua ambizione non l'avesse precipitato in quell'avventura l'amore infatti non si accontenta che l'unità della natura riposi sui contrasti ma incline come alla sua vita alla delicatezza vorrebbe un'unità senza opposizioni e così il generale sarà forzato in tutti i modi di ottenere tale unità ho fatto fare raccontò a Urrich mostrandogli il foglio relativo un elenco dei condottieri delle idee vale a dire che contiene tutti i nomi di coloro che negli ultimi tempi hanno guidato alla vittoria notevoli contingenti di idee quest'altro qui è un ordine di battaglia questo è un piano dello schieramento strategico questo è un tentativo di identificare i depositi e gli arsenali dove si effettua il rifornimento delle idee ma se tu osservi uno dei gruppi di idee impegnati in combattimento vedi subito e ho voluto e ho voluto che risultasse ben chiaro dal disegno che esso attinge i suoi rinforzi di truppe e di materiale ideologico non soltanto dal proprio deposito ma anche da quello dell'avversario vedi che cambia continuamente di fronte e senza nessun motivo combatte tutto a un tratto col fronte rovesciato contro le proprie posizioni ma vedi altresì che le idee disertano tutti i momenti di qua e di là sicché le trovi ora in questa ora nell'opposta linea di battaglia insomma non si può stabilire né un regolare piano di dislocamento né una linea di confine né niente e il tutto è parlando con rispetto eppure d'altra parte non lo posso credere quello che da noi ogni superiore chiamerebbe un branco di porci impazziti Stum cacciò in mano ad Ulrich una dozzina di fogli in una volta erano coperti di direttive di marcia linee ferroviarie reti stradali calcoli di portata contrassegni di corpi dislocamenti di truppe circoli quadrati zone tratteggiate il tutto come in un regolamentare rapporto di stato maggiore intersecato da linee rosse verdi azzurre e zalle e disseminato di bandierine dei più vari tipi e significati quelle che un anno più tardi sarebbero diventate casi popolari ma non serve a niente sospirò Stum ho cambiato modo e provato ad affrontare il problema dal punto di vista della geografia militare invece che da quello della strategia sperando di ottenere almeno un campo di operazioni ben articolato ma non c'è verso ecco qui le descrizioni orografiche e idrografiche urri vede segnate sulla carta vette di montagne da cui partivano diramazioni che più in là si riammassavano sorgenti reti fluviali e laghi negli occhi vivaci del generale scintillava qualcosa come irritazione o esasperazione ho tentato in cento modi e gli disse di riportare il tutto a un'unità ma sai com'è come viaggiare in seconda classe in Galizia e prendersi i pidocchi è la più schifosa sensazione di impotenza che si possa immaginare quando sei stato un pezzo in mezzo alle idee ti prude tutto quanto il corpo e non hai pace se non ti gratti a sangue il più giovane non poté trattenersi dal ridere di quell'energica descrizione ma il generale pregò no non ridere io ho pensato che tu sei divenuto un borghese eminente e la tua posizione devi capire la questione e devi capire anche me sono venuto a chiederti aiuto ho troppa reverenza per tutto ciò che rappresenta lo spirito e perciò non posso credere di aver ragione tu prendi troppo sul serio il pensiero signor colonnello lo consolò Ulrich involontariamente aveva detto colonnello e se ne scusò mi hai così piacevolmente ricondotto al passato signor generale quando mi comandavi certe sere a filosofare in un cantuccio del circolo ma ti ripeto non bisogna prendere tanto sul serio lo spirito come tu stai facendo non bisogna gemette Stum ma io non posso più vivere senza una regola superiore nella mia testa non lo capisci io ora brividisco se penso quanto tempo sono vissuto senza di essa sui campi di manovre nelle caserme fra barzellette militari e storie di donne si sedettero a tavola Ulrich era commosso dalle idee puerili che il generale attuava con virile coraggio e dalla giovialità indistruttibile che il soggiorno obbligatorio nelle piccole guarnigioni conferisce aveva invitato il camerata di anni lontani a dividere la cena con lui e il generale era così preso dal desiderio di essere iniziato ai suoi segreti che infilzava con grandissima attenzione sulla forchetta ogni fettina di salame tua cugina che gli disse e alzò il bicchiere colmo di vino è la donna più mirabile che io conosca hanno ragione a dire che è una seconda di ottima io non ho mai visto chi le stia a paro sai mia moglie tu non la conosci non me ne posso lagnare e abbiamo anche figlioli ma una donna come di ottima è tutt'altra cosa quando riceve mi metto talvolta dietro di lei un'opulenza femminile imponente e intanto dal lato anteriore fa conversazione con qualche borghese illustre e sfoggia tanta cultura che mi ven voglia di prendere appunti il capo di visione suo marito non sa assolutamente che tesoro possiede ti chiedo scusa per il caso che codesto Tuzzi ti sia particolarmente simpatico ma io non lo posso patire non fa che gironzolare e sorridere come chi la salunga ma non la vuol dire ma a me non la dà ad intendere io ho tutto il rispetto per i borghesi ma fra i borghesi gli statali vengono per ultimi sono come dei soldati in abito civile che ad ogni occasione litigano con noi per la precedenza comportandosi con la impertinente cortesia di un gatto che sta arrampicato su un albero e guarda un cane giù a terra il dottor Arnheim è di tutt'altro calibro seguitò a discorrere il generale forse anche lui è pieno di sé ma la sua superiorità bisogna riconoscerla doveva aver bevuto un po' troppo in fretta dopo aver parlato tanto perché ormai era a suo agio e preso un tono confidenziale non so come sia continuò forse non lo capisco perché al giorno d'oggi abbiamo tutti un cervello così complicato ma quantunque io stesso ammiri tua cugina come se beh lasciami dire come se avesse in gola un boccone troppo grosso tuttavia è un sollievo per me saperla innamorata di Arnheim come sei sicuro che ci sia qualcosa fra loro Ulrich aveva ribattuto con una certa vivacità sebbene in fondo la cosa non dovesse toccarlo Stum lo guardò sospettosamente coi suoi occhi miopi ancora appannati dall'emozione e inforcò lo stringi naso non ho detto che gliel'abbia avuta replicò in crudo linguaggio soldatesco si ritolse gli occhiali e soggiunse non più soldatescamente ma non ci troverai nulla da ridire il diavolo mi porti te l'ho già detto che in questa compagnia anche il mio cervello diventa complicato non sono di certo un sentimentale ma se mi immagino la tenerezza che Diotima potrebbe donare a quell'uomo provo anch'io tenerezza per lui e inversamente mi sembra che siano i miei baci quelli che lui dà a Diotima le dà dei baci che vuoi che ne sappia non sto mica a spiarli me li immagino soltanto così ti dico che non capisco me stesso nel resto ho visto una volta che lui le teneva la mano dovevano essere convinti che nessuno li guardasse e rimasero per un po' quieti quieti come se fosse stato dato il comando in ginocchio per la preghiera giù il berretto poi lei chiese qualcosa sottovoce e lui rispose me lo ricordo parola per parola perché era difficile da capire lei cioè gli disse ah per trovare un'idea che ci salvi e lui rispose soltanto un puro intatto pensiero d'amore ci può liberare evidentemente lui dava un'interpretazione troppo personale perché lei certo alludeva all'idea che le occorre per l'azione patriottica perché ridi oh non prenderti soggezione io ho sempre avuto le mie strenezze e adesso mi son fitto in capo di andarle in aiuto non deve essere impossibile idee ce ne sono tante una finirà per andar bene tu però mi devi dare una mano caro generale tornò a dire a Ulrich non posso far altro che ripeterti che dai troppa importanza al pensiero ma poiché ci tieni cercherò di spiegarti meglio che posso come pensa un borghese avevano acceso i sigari ed egli incominciò in primo luogo generale sei su una falsa strada lo spirito non è proprio dei borghesi e la materia dei militari come tu credi ma precisamente il contrario perché lo spirito è ordine e dove c'è maggior ordine che nell'esercito nell'esercito tutti i colletti sono alti 4 centimetri il numero dei bottoni è esattamente stabilito e anche nelle notti più popolate di sogni i letti sono ben allineati lungo le pareti lo schieramento di uno squadrone in linea spiegata la dunata di un reggimento la posizione giusta della fibbia in un sottogola sono quindi beni spirituali di alta importanza oppure beni spirituali non esistono affatto va a raccontarle a tua nonna prontolò il generale ma con cautela non sapendo se doveva diffidare delle proprie orecchie o del vino bevuto tu hai troppa fretta insiste Urrich la scienza è possibile soltanto là dove gli avvenimenti si ripetono o almeno vengono controllati e dove ci sono più ripetizioni e controlli che nell'esercito un dado non sarebbe un dado se alle 9 non fosse precisamente quadrato come alle 7 le lezzi che determinano l'orbita dei pianeti sono una specie di regolamento di tiro e non potremmo mai farsi un concetto o un giudizio di nessuna cosa se tutto ci passasse davanti una sola volta ciò che ha da acquistare un valore e un nome deve ripetersi deve esistere in molti esemplari e se tu non avessi mai visto la luna la prenderesti per una lanterna e fra parentesi il grave imbarazzo che Dio procura alla scienza sta nel fatto che egli è stato visto una sola volta e per di più alla creazione del mondo prima che esistessero osservatori addestrati bisogna mettersi nei panni del generale fin dall'accademia era sempre vissuto secondo norme che regolavano tutto dalla forma del berretto alla dote militare e il suo spirito era poco disposto ad accogliere simili spiegazioni caro amico rispose imbronciato tutto questo può essere ma non mi riguarda affatto è una bellissima freddura dire che noi militari abbiamo inventato la scienza ma io non parlavo della scienza bensì come dice tua cugina dell'anima e quando lei parla dell'anima mi viene voglia di spogliarmi nudo tanto poco si intona all'uniforme caro Stum proseguì Ulrich imperterrito molti accusano la scienza di essere meccanica e senza anima e di rendere tale tutto quello che tocca ma è strano come non si avvedano che nelle faccende del cuore c'è molta più regolarità che in quelle della ragione quando è infatti che un sentimento è davvero semplice e naturale quando vede attendersi che si produca automaticamente in tutti gli uomini nella stessa situazione come si potrebbe esigere virtù da tutti gli uomini se un'azione virtuosa non fosse un'azione che si può ripetere a volontà potrei farti molti altri esempi e se tu fuggi da questa lugubre normalità e ti ripari nel profondo del tuo essere dove stanno di casa gli impulsi incontrollati in quell'umido tenebrole che ci protegge dall'aridità della ragione che cosa trovi? Stimoli e riflessi previsti rotaie d'abitudini ed attitudini ripetizioni fissità serie monotonia quella è caserma uniforme regolamento caro Stum e l'anima borghese ha una strana parentela con la militare si potrebbe dire che dove può si attacca a quel modello tuttavia inarrivabile e poiché non ci riesce è come un bambino rimasto solo prendi ad esempio la bellezza di una donna quello che come bellezza ti sbalordisce e ti soggioga quello che credi di vedere per la prima volta nella tua vita tu intimamente lo conoscevi e lo cercavi da un pezzo ce n'era già nei tuoi occhi un brillio anticipato che solo adesso è diventato intenso come la luce del giorno e invece si tratta davvero di amore al primo sguardo di bellezza che non hai mai veduta allora tu non sai che cosa fare perché nulla di simile ti è mai capitato non sai come chiamarlo non hai un sentimento in risposta sei soltanto infinitamente sconvolto abbacinato stupefatto ridotto a una imbecillità ottusa che sembra non aver nulla a che fare con la felicità qui il generale interruppe vivacemente l'amico finora l'aveva ascoltato con la pieghevolezza imparata in caserma dai biasimi e dagli ammaestramenti dei superiori che bisognava se è necessario ripetere ma però mai accogliere in sé perché sarebbe come cavalcare un riccio senza sella adesso però Ulrich l'aveva colpito ed egli esclamò con impeto onore al vero la tua descrizione è esattissima quando mi immergo nell'ammirazione per tua cugina mi sembra che tutto dentro di me si dissolva nel nulla e se tendo tutte le mie forze perché mi venga in mente un'idea che le possa servire mi sento il cervello sgradevolmente vuoto imbecillità non mi pare il caso di chiamarla ma è certo qualcosa di molto simile e tu dunque se ho capito bene dici che noi militari ragioniamo benissimo e l'intelligenza dei borghesi beh che devono prendere noi a modello questo mi pare troppo sono sicuro che l'hai detto per scherzo ma insomma è uguale alla nostra l'ho pensato anch'io parecchie volte e tutto il resto secondo te tutte quelle cose che a noi soldati sembrano così caratteristicamente borghesi come anima virtù intimità sentimento Anheim le ha sulla punta delle dita ma tu dici che sono spirito sì sono appunto le cosiddette considerazioni di natura sublime ma dici anche che alla fine ti riducono scemo ed è proprio vero in conclusione però l'intelligenza civile è superiore alla nostra e tu non lo puoi contestare dunque come si concilia tutto questo poco fa ti ho detto in primo luogo e tu te lo sei dimenticato in primo luogo dicevo lo spirito è proprio dei militari e ora aggiungo in secondo luogo la materia è propria dei borghesi ma questo è assurdo si ribellò Stum diffidente la superiorità fisica del soldato era un dogma esattamente come la persuasione che le classi degli ufficiali è la più vicina al trono e anche se Stum non si era mai considerato un atleta nel momento in cui lo si metteva in dubbio ecco saltar sulla certezza che una pancia borghese a parità di circonferenza doveva almeno essere più molle della sua non più nemmeno assurdo di tutto il resto si difese Urrich ma lasciami finire vedi un centinaio d'anni fa i cervelli che leggevano la borghesia tedesca credettero che il civile pensante avrebbe dedotto dalla sua mente le leggi del mondo seduta a tavolino così come si dimostrano i teoremi algebrici il pensatore a quei tempi era un uomo in calzoni di ranchino con un ciuffo di capelli che gli cascava sulla fronte e non conosceva ancora la lampada petrolio per non parlare dell'elettricità e del telegrafo da allora quella presunzione è stata energicamente rintuzzata in cento anni abbiamo imparato a conoscere il meglio di noi stessi e la natura e tutte le cose ma il risultato per dire così è che l'ordine che si guadagna nel particolare si torna a perdere nell'insieme così che abbiamo sempre più ordini e sempre meno ordine questo collima con le mie indagini confermò Stum non siamo però accaniti come te a trarre conclusioni seguitò Ulrich dopo gli sforzi passati siamo caduti in un periodo di apatia immagina quello che succede oggi se un uomo ragguardevole mette al mondo un'idea essa viene subito afferrata da un processo distributivo fatto di simpatia e di antipatia prima gli ammiratori ne strappano grossi pezzi a piacere e sconciano il loro maestro come le iene la carogna poi gli avversari distruggono i punti deboli e in breve di qualunque opera non rimane che una provvista di aforismi da cui si servono amici e nemici come fa loro comodo ne consegue una generale ambivalenza non c'è un sì a cui non si sia appiccicato o no puoi far ciò che vuoi troverai sempre venti bellissime idee pro e venti contro ti sarebbe da credere che sia come nell'amore nell'odio e nella fame dove i gusti devono essere diversi perché ciascuno possa avere il suo magnifico esclamò Stum di nuovo conquistato qualcosa di simile l'ho detto anch'io adiotima ma non pensi che in questo disordine è la giustificazione di noi militari eppure io mi vergogno di crederci anche per un solo momento ti consiglierai senteggiò Ulrich di suggerire adiotima che Dio per motivi a noi tutto ragnoti pare voglia instaurare l'era della cultura fisica perché l'unica cosa che dà un po' di consistenza alle idee è il corpo al quale esse appartengono e poi come ufficiale ti troveresti in vantaggio il piccolo e grosso generale sussultò in quanto a cultura fisica non sono più bello di una pesca sbucciata disse dopo un po' con amara soddisfazione e devo dirti soggiunse che penso adiotima solo in un modo corretto e nello stesso modo desidero far bella figura davanti a lei peccato commentò Ulrich le tue intenzioni sono degne di un Napoleone ma non hai scelto il secolo adatto il generale incassò lo scherzo con la dignità che gli conferiva il pensiero di soffrire per la dama del suo cuore e disse dopo una breve meditazione ad ogni modo ti ringrazio per gli interessanti consigli 86 il finanziere del re e la collusione anima affari anche tutte le vie dello spirito partono dall'anima ma nessuna vi ritorna mentre l'amore del generale cedeva il campo alla sua ammirazione per diotima e Arnheim quest'ultimo avrebbe dovuto essersi deciso da un pezzo a non far più ritorno invece prendeva disposizioni per una sosta più lunga si riservò stabilmente le camere che occupava l'albergo e la sua vita già taparve a quietarsi a quel tempo il mondo era scosso da ogni sorta di eventi e chi verso la fine dell'anno 1913 era bene informato aveva la visione di un vulcano ribollente anche se tutti per effetto della pacifica operosità che regnava erano convinti che non sarebbe mai entrato in eruzione questa fiducia non aveva dappertutto la stessa forza le finestre del bel palazzo antico in piazza della pallacorda dove il capodivisione Tuzzi esercitava al suo ufficio gettavano luce fino a tarda sera sugli alberi spogli del giardino di fronte e gli sfaccendati istruiti che passavano lì di notte si sentivano venire la pelle d'oca infatti così come Giuseppe il santo si compenetra con l'ordinario falagname Giuseppe il nome piazza della pallacorda conferiva al palazzo omonimo Laura Arcana di essere una delle sei o sette misteriose cucine dove dietro le tende abbassate si manipola il destino dell'umanità il dottor Arnheim era abbastanza informato di quegli eventi riceveva dispacci cifrati e di quando in quando la visita di uno dei suoi impiegati che veniva dalla sede centrale con informazioni private anche le finestre del suo appartamento d'albergo erano illuminate fino a tardi e un osservatore ricco di fantasia avrebbe potuto immaginare che vi riscedesse un governo avversario un antigoverno un moderno apocrifo apparecchio di guerra della diplomazia economica del resto Arnheim aveva sempre cura di confermare quell'impressione infatti senza le suggestioni dell'esteriorità l'uomo è un frutto dolce acquoso senza buccia fin dalla prima colazione che appunto perciò non faceva mai in camera bensì nella sala da pranzo dell'albergo aperta a tutti Arnheim con la destrezza dello statista esperto e il contegno riservato e cortese dell'uomo che si sia osservato impartiva al segretario che ne prendeva nota stenograficamente le istruzioni del giorno nessuna di esse sarebbe bastata da sola a dargli gioia ma spartendosi fra di loro il posto nella sua coscienza circoscritte per giunta dai piaceri della colazione raggiungevano un livello notevole è probabile che l'ingegno umano ed era questa una delle sue idee favorite abbia bisogno di certe limitazioni per potersi sviluppare lo spazio veramente fertile tra la sfrenata libertà e la pusillanime fuga dai pensieri è assai angusto come sanno tutti coloro che conoscono la vita inoltre egli era persuaso che molto dipendesse dalla persona pensante perché si sa che pensieri nuovi e importanti hanno rare volte un autore solo e d'altra parte il cervello di un uomo abituato a pensare produce incessantemente pensieri di valore diverso la conclusione la forma efficace e operante le idee devono ricevere sempre dal di fuori non soltanto dal pensiero ma da tutta la condizione umana della persona una domanda del segretario un'occhiata a un tavolo vicino il saluto di un sopravveniente qualunque cosa di questo genere ricordava ogni volta ad Arnheim nel momento giusto la necessità di far colpo e la coerenza del contegno che egli assumeva si trasferiva subito al suo pensiero questa esperienza di vita egli l'aveva riassunta nella persuasione consona ai suoi bisogni che l'uomo pensante deve sempre essere nel contempo un uomo operante a dispetto di tale convinzione però egli non annetteva grande importanza alla propria momentanea attività anche se con essa perseguiva uno scopo che in certe circostanze poteva essere straordinariamente fruttuoso egli temeva di fare al suo soggiorno un sacrificio di tempo ingiustificabile si richiamava ripetutamente alla memoria la fredda antica massima divide ed impera essa vale per ogni rapporto con uomini e cose ed esige una certa svalutazione dei rapporti singoli mediante la tonalità di tutti perché il segreto delle condizioni in cui si vuole agire con successo è quello stesso dell'uomo amato da molte donne mentre lui non ne preferisce alcuna ma non serviva a nulla la sua memoria gli rappresentava gli obblighi che il mondo impone all'uomo nato per una grande attività egli però dopo essersi ripetutamente interrogato non poteva tuttavia reprimere la risposta che era innamorato ed era una cosa strana perché un cuore che ha quasi cinquant'anni è un muscolo coriaceo che non vuole più distendersi semplicemente come quello di un ventenne al tempo della fioritura d'amore e gli procurava quindi considerevoli fastidi innanzitutto notò con preoccupazione che i suoi interessi universali appassivano come un fiore senza radice e che prosperavano invece le insignificanti impressioni di tutti i giorni da un passerotto sul davanzale al sorriso di un cameriere in quanto ai suoi concetti morali che di solito costituivano un imponente sistema di forze a cui nulla poteva sottrarsi egli si accorse che diventavano più poveri di coerenza mentre prendevano un non so che di corporeo si poteva chiamarlo dedizione ma la parola aveva di solito un senso molto più largo e in ogni caso anche diverso giacché non se ne può mai fare a meno la dedizione a un dovere a un superiore o a un capo e anche alla vita stessa nella sua ricchezza e nella sua varietà era sempre stata per lui intesa come virtù virile la quintessenza della dirittura morale che pur schietta e aperta contiene più riservo che abbandono e lo stesso si poteva dire della fedeltà che limitata a una donna ha un certo sapore di cavalleria di mansuetudine di abnegazione e di delicatezza tutte le virtù che ci vuole immaginare associate alla donna ma che perdono perciò la loro migliore ricchezza così che è difficile dire se anche l'amore scorre verso di lei come l'acqua verso il luogo più profondo e non sempre inobiettabile o se l'amore femminile è il luogo vulcanico il cui calore dà vita a tutto ciò che fiorisce sulla superficie della terra un grado molto alto di vanità maschile si sente quindi più a suo agio nella compagnia degli uomini che in quella delle donne e se Arnheim paragonava la sua ricchezza di idee portata sul piano della potenza con lo stato di beatitudine raggiunto mediante di ottima non poteva sottrarsi all'impressione di un moto retroverso che gli aveva compiuto talvolta aveva bisogno di baci e carezze come un fanciullo che se il suo desiderio non è corrisposto si getta appassionatamente ai piedi di colei che lo respinge oppure lo coglieva la smania di singhiozzare di lanciare al mondo parole di sfida e infine di rapire l'amata e di portarsela via fra le braccia ora è noto che nella zona di irresponsabilità della persona cosciente dove vengono le fiabe e le poesie dimorano anche i ricordi infantili e diventano visibili quando per eccezione la leggera ebrietà di una stanchezza il gioco senza freno dell'alcol o una scossa qualsiasi rischiarano quelle regioni e anche gli impulsi di Arnheim non erano più concreti di quegli schemi cosicché egli non avrebbe avuto motivo di inquietarsene di accrescere con tale inquietudine l'inquietudine iniziale se quelle regressioni infantili non l'avessero convinto che la sua vita psichica era tutta piena di preparativi morali scoloriti il valore universale che egli si sforzava sempre di dare alle sue azioni da uomo la cui vita si svolgeva in cospetto di tutta l'Europa gli apparve improvvisamente come privo affatto di interiorità forse ciò non è naturale se una cosa deve valere per tutti l'inquietante però era il grovesciamento di quella conclusione che si imponeva ugualmente ad Arnheim perché se ciò che ha valore universale non è interiore inversamente l'uomo interiore è il non valido e così Arnheim adesso non soltanto era incalzato dall'impulso di fare qualcosa di clamorosamente sbagliato di assurdamente illegittimo ma anche dall'aggravante che sarebbe stata questa la cosa giusta in un senso che trascendeva la ragione da quando conosceva di nuovo il fuoco che gli inaridiva la lingua egli era in preda alla sensazione di aver dimenticato la strada un tempo percorsa e la sua complessa ideologia di grand'uomo gli sembrava soltanto il sorrogato forzoso di qualcosa che aveva perduto così per naturale conseguenza egli ripensava alla sua fanciullezza nei ritratti infantili aveva grandi occhi neri e rotondi come il bambino Gesù che disputa nel tempio con i dottori e vedeva tutti gli istitutori e le istitutrici radunati in circolo intorno a lui a stupire il suo ingegno perché era stato un ragazzo intelligente e aveva avuto educatori intelligenti era anche sempre stato però un ragazzo ardente e sensibile che non poteva tollerare l'ingiustizia troppo protetto perché l'ingiustizia potesse toccare lui difendeva per la strada vittime sconosciute e si gettava nella lotta per loro l'azione era notevole se si pensa con quanta cura cercassero di impedirgliela tanto che non passava mai più di un minuto senza che qualcuno accorresse a dividerlo dall'avversario e poiché in questo modo le zuffe duravano giusto quel tanto da permettergli questa o quella dolorosa esperienza ma erano interrotte a tempo per lasciargli l'impressione di essere valoroso e invincibile Arnheim vi ripensava ancora oggi con approvazione e l'attributo sovrano di un coraggio che nulla fa indietreggiare fu trasfuso più tardi nei suoi libri e nelle sue persuasioni come è necessario a un uomo che deve insegnare ai suoi contemporanei il modo di vivere dignitosi e felici di quella condizione della sua infanzia sembrava dunque assai vivace ricordo ma un'altra sopraggiunta più tardi e in parte come un seguito modificato della prima gli si mostrava come addormentata o per dir meglio impietrita se è permesso intendere per pietre diamanti era quella dell'amore svegliata ora di sussulto al nuova vita dal tocco di Diotima e non è senza significato notare che Arnheim Giovinetto vi era entrato senza donne anzi senza persone definite e questo era un fatto imbarazzante che lui non aveva mai potuto risolvere in tutta la sua vita sebbene nel corso del tempo ne avesse appreso le spiegazioni più moderne ciò che egli intendeva era forse l'inesplicabile avvicinarsi di qualcosa che non appariva ancora come le fugace espressioni su un volto che non appartengono a questo ma ad altri volti improvvisamente supposti al di là di ogni cosa veduta erano piccole melodie in mezzo al frastuono sentimenti delle creature anzi erano in lui sentimenti che se le sue parole li cercavano non erano ancora nemmeno sentimenti era piuttosto come se il suo corpo s'allungasse e già con le punte si aspergesse si tuffasse come talvolta le cose si allungano nelle giornate primaverili splendenti di febbre e le loro ombre ne strisciano fuori restando quiete e mosse in una direzione come le immagini riflesse in un rio così molto più tardi però e con accento diverso aveva detto un poeta che Arnheim stimava perché passava per iniziato chi sapeva di quel uomo misterioso remoto alla vista del pubblico senza capirlo d'altronde perché Arnheim collegava quelle vaghe allusioni ai discorsi sul destarsi di un'anima nuova che erano in voga negli anni della sua giovinezza o ai lunghi e magri corpi di fanciulla che piacevano allora nei quadri ed erano contrassegnati da un paio di labbra che sembrava il calice carnoso d'un fiore a quel tempo era circa l'anno 1887 e oddio quasi un'altra generazione pensava Arnheim le sue fotografie mostravano un uomo moderno nuovo come si diceva allora cioè vestito di un gilet di raso nero abbottonato fino al collo e di una larga cravatta di seta pesante derivata dalla moda dell'epoca Biedermeyer che però nell'intenzione doveva far pensare a Baudelaire e la somiglianza era ancora sottolineata da un'orchidea nuova intenzione magliosamente perfida che Arnheim Junior si infilava nell'occhiello quando doveva partecipare a un pranzo e far rifulgere la sua giovane persona in una compagnia di robusti commercianti e amici di suo padre nei ritratti dei giorni di lavoro invece appariva sovente come ornamento un doppio decimetro che sporgeva dal taschino di un morbido abito inglese di forma pratica accompagnato con un effetto che era assai comico ma che dava risalto alla testa espressiva da un altissimo colletto inamidato così appariva Arnheim da giovane e ancora oggi egli non poteva negare ai suoi ritratti una certa dose di simpatia giocava bene e con lo zelo di una passione ancora inconsueta al tennis che in quei primi tempi aveva per campo un terreno arboso con stupore di suo padre senza nascondersi frequentava le riunioni di operai perché durante un anno di studi a Zurigo aveva fatto una scandalosa conoscenza con delle idee socialistiche ma il giorno dopo non si faceva scrupolo di attraversare a cavallo di gran carriera un villaggio di lavoratori insomma era stato un turbine di elementi spirituali contradditori ma nuovi che gli davano la magica illusione d'essere nato al momento giusto illusione di grande importanza anche se più tardi ci si accorge naturalmente che il suo valore non sta proprio nella sua verità anzi Arnheim dando col tempo sempre maggiore spazio alle idee conservatrici finì col chiedersi se quella sensazione costantemente ricorrente di essere l'uomo dell'ultima pattuglia non fosse uno sciupio della natura però non vi rinunziava perché non gli piaceva rinunziare a nulla di cui fosse venuto in possesso e la sua natura di collezionista aveva accuratamente raccolto in sé tutto ciò che offrivano i suoi tempi oggi però per armonica e varia che gli apparisse la sua vita gli sembrava di essere stato travolto e con ben altre conseguenze da ciò che sulle prime gli era parso più irreale di tutto da quello stato appunto tra romantico e presago che lo aveva persuaso di appartenere non soltanto al mondo vivo e tumultuoso ma anche un mondo diverso che aleggiava nell'altro come un respiro trattenuto quell'esaltazione presaga risorta grazie a Diotima nella sua spontaneità primitiva gli impediva ogni attività e occupazione il tumulto dei contrasti giovanili e le mutevoli promettenti speranze cedevano il luogo al quieto sognare ad occhi aperti che tutte le parole gli eventi e gli obblighi nella loro profondità remota dalla superficie fossero una cosa sola in quei momenti anche l'ambizione taceva le vicende della realtà erano lontane come rumore al di là di un parco gli sembrava che l'anima uscita dall'alveo solo ora fosse per davvero presente non si affermerà mai abbastanza recisamente che quella non era filosofia ma un'esperienza fisica come vedere la luna illuminata dalla luce del giorno sospesa quietamente nel cielo mattutino in quello stato già il giovane Paul Arnheim pranzava in un ristorante di lusso andava in società elegantemente vestito e faceva dappertutto ciò che si doveva fare ma si potrebbe dire che da lui a lui c'era la stessa distanza come all'individuo o d'oggetto vicino che il mondo esterno non finiva alla sua epidermide e il mondo interiore non brillava al di fuori attraverso le sole finestre della riflessione ma entrambi si confondevano in un'indivisa solitudine e presenza che era dolce serena e alta come un sonno senza sogni sotto l'aspetto morale egli manifestava allora molte equanimità e indifferenza nulla era piccolo e nulla era grande una poesia e un baciamano pesavano quanto un'opera in molti volumi o una vasta azione politica e tutto il male era privo di senso come in fondo anche il bene diventava inutile quando si era così circondati dalla tenera affinità originaria di tutte le creature Arnheim dunque si comportava come di consueto ma sembrava che ciò accadesse in un senso inafferrabile dietro alla cui fiamma guizzante l'uomo interiore restava in moto e guardava quello esteriore che stava magari mangiando una mela o misurando un abito dal sarto era immaginazione era immaginazione o l'ombra di una realtà che non si intenderà mai fino in fondo si può soltanto rispondere che tutte le religioni in certi stadi del loro sviluppo hanno sostenuto che era realtà e lo stesso hanno fatto tutti gli innamorati tutti i romantici e tutti coloro che hanno una passione per la luna la primavera e la morte deliziosa delle prime giornate d'autunno più tardi tutto questo si perde di nuovo svanisce o si disseca non si può dire ma un giorno ci si accorge che c'è qualcos'altro al suo posto e lo si dimentica subito come le vicende non vere i sogni le fantasticherie poiché questa primordiale universale esperienza d'amore coincide per lo più con il primo innamoramento personale si crede di sapere anche più tardi rassicurati come giudicarla e la si annovera fra le sciocchezze che è lecito permettersi prima di avere diritto al suffragio politico questa era l'essenza della cosa ma poiché per Arnheim tale condizione non era mai stata legata a una donna non poteva sparire con lei dal suo cuore nel modo naturale venne invece ricoperto dalle impressioni che il suo animo ricevette appena entrò nel commercio del padre dopo aver compiuto il suo periodo di studi e di vacanze poiché non faceva mai nulla a metà scoprì subito che la vita attiva e ben organizzata era un poema assai più grande di tutti quelli che i poeti componevano nei loro scrittoi e tutto gli apparve nuovo e diverso intanto si rivelò per la prima volta il suo talento ad essere un esempio e un modello il poema della vita infatti ha di fronte a tutti gli altri poemi il vantaggio ad essere scritto in lettere maiuscole qualunque sia il suo contenuto la terra gira intorno al più piccolo apprendista che serve in una ditta mondiale e i continenti lo guardano al di sopra della spalla sicché nulla di quel che fa è privo di importanza intorno all'autore solitario nel suo studio invece girano tutt'al più le mosche si ingegni pure quanto vuole la cosa è tanto evidente che a molti appena incominciano a trafficare col materiale della vita tutto ciò che li ha commossi fino allora appare soltanto letteratura cioè esercita nel migliore dei casi un effetto debole e confuso sovente poi contradditorio e autodistruttivo senza rapporto alcuno con lo strepito che si fa intorno al suo apparecchio non proprio lo stesso accadeva ad Arnheim che non negava le belle emozioni dell'arte né si sentiva di condannare come sciocchezza o fantasia qualunque cosa l'avesse anche una sola volta commosso appena riconosciuta la superiorità della propria condizione adulta su quella trassognata dell'adolescenza si era accinto ad operare una fusione di due gruppi d'esperienze sotto la guida del suo nuovo intendimento virile e in realtà fece appunto ciò che fanno i molti e la maggioranza delle persone colte che entrati in una vita di lavoro e di guadagno non vogliono rinnegare del tutto i loro antichi interessi e al contrario raggiungono solo allora un tranquillo maturo equilibrio con gli entusiasmi impulsivi della loro gioventù la scoperta del grande poema della vita al quale sono consapevoli di collaborare restituisce loro l'ardire del dilettante che avevano perduto al tempo in cui bruciavano le proprie poesie componendo anch'essi il loro piccolo verso possono considerarsi a buon diritto nati per il loro mestiere e penetrano di responsabilità morale la loro attività quotidiana si sentono posti dinanzi a mille piccole risoluzioni affinché essa risulti bella e morale prendono esempio dal pensiero che Goethe è vissuto così e asseriscono che senza la musica senza la natura senza lo spettacolo dei giochi innocenti dei bambini e degli animali e senza un buon libro la vita non avrebbe gioie questa classe media così spiritualizzata è in Germania la consumatrice principale delle arti e della letteratura non troppo difficile ma i suoi adepti comprensibilmente e con un occhio almeno riguardano l'arte e la letteratura che prima sembrava loro il compimento dei loro desideri come un primo gradino quantunque più perfetto di quanto fosse mai stato loro concesso oppure come un fabbricante di oggetti di latta potrebbe riguardare uno scultore di figurine di gesso se avesse la debolezza di trovare belli i suoi prodotti a quella classe media della cultura Arnheim assomigliava come uno splendido garofano di giardino a un povero fiorellino nato sul margine della strada per lui non era mai questione di rinnovamento spirituale di sovvertimento di principi i suoi problemi erano soltanto l'inserimento di ciò che già esiste la presa di possesso la lieve correzione il risollevamento morale del privilegio declinante dell'autorità costituita non era uno snob né un adoratore di chi stava al di sopra di lui presentato a corte ed entrato in contatto con l'alta nobiltà e con i pezzi grossi della burocrazia non cercò affatto di conformarsi all'ambiente come imitatore ma soltanto come amante delle consuetudini feudali e conservatrici che non dimentica e non fa dimenticare la sua origine per così dire francofortese ghettiana ma con questo la sua opposizione si esauriva e un contrasto maggiore gli sarebbe parso senza diritto di vita intimamente egli doveva essere convinto che gli uomini produttivi i creatori e alla loro testa comprendendole in un'epoca nuova i grandi commercianti che governano la vita sono chiamati quando che sia a costituire nel comando le antiche forze e questo gli dava un certo placido orgoglio al quale l'evoluzione successiva conferiva il titolo di diritto ma anche ammettendo la pretesa di autorità diretta da parte del denaro rimane aperta la questione dell'impiego opportuno di tale autorità per i predecessori dei direttori di banca e dei grandi industriali le cose andavano bene erano cavalieri e dei loro nemici facevano poltiglia lasciando al clero le armi spirituali l'uomo contemporaneo invece possiede in denaro secondo l'intendimento di Arnheim il metodo oggi più sicuro per trattare tutti i rapporti ma se tale metodo può essere duro e preciso come una ghigliottina può anche essere sensibile come un malato di reumatismi basti pensare alle contraddizioni e alle paralisi della borsa per il più lieve motivo ed è in relazioni delicatissime con tutto ciò che sta sotto il suo dominio attraverso questo fragile nesso di tutte le cose della vita che solo una cieca alvagia di ideologo può dimenticare Arnheim era giunto a vedere nel grande commerciante la sintesi di rivoluzione e conservazione potere e civiltà borghese ragionevole rischio e coerente sapere e ancora più in fondo una figurazione simbolica della democrazia che ci stava preparando col severo e instancabile perfezionamento della propria personalità con l'organizzazione spirituale delle relazioni sociali e commerciali a lui accessibili e con le sue idee sul reggimento e sulla composizione dello stato egli voleva concorrere a produrre un'epoca nuova dove le forze della società diseguali per attitudine e per natura fossero giustamente e inutilmente ordinate e l'ideale non si spezzasse contro la realtà che necessariamente l'ostacolano ma anzi si purificasse e si rafforzasse per esprimerlo in termini positivi egli aveva compiuto la fusione di interessi fra anima e affari sviluppando il concetto principe di mercante e il sentimento dell'amore che in passato gli imponeva di sentire l'unità essenziale del tutto era adesso il nocciolo della sua idea dell'unità e armonia della cultura e degli interessi umani a quel tempo circa Anheim cominciò anche a pubblicare i suoi scritti e la parola anima vi fece la sua comparsa si può supporre che egli la usasse come un metodo un vantaggio una parola sovrana perché è sicuro che principi e generali non hanno anima e dei finanzieri era lui il primo a non averla è certo anche che vi aveva una parte di necessità di difendersi in un modo inaccessibile all'intelligenza commerciale contro il suo razionalissimo ambiente e in particolare contro quel tipo di condottiero del padre che lo superava nel mondo degli affari e accanto al quale egli cominciava a far la figura del principe ereditario invecchiante a poco a poco ed è altrettanto certo che la sua ambizione di padroneggiare tutto lo scibile una smania deludizione tale che nessun uomo avrebbe potuto acquistare trovava in quel concetto dell'anima un mezzo per deprezzare ciò che la sua intelligenza non poteva dominare da che in questo non differiva dal suo tempo che non per vocazione di fede torna a manifestare forti tendenze religiose ma soltanto si direbbe per femminea puntigliosa ribellione contro il denaro la scienza e il calcolo ai quali soggiace appassionatamente ma era incerto e problematico se Arnheim quando parlava dell'anima ci credesse veramente e al possesso di un'anima attribuisse la stessa realtà come al possesso di valori azionari egli se ne serviva come espressione per qualcosa che non sapeva in che altro modo esprimere trascinato dalla sua smania perché era un oratore che non cedeva facilmente la parola ad altri e poi dopo aver preso conoscenza dell'impressione che era capace di suscitare nel pubblico sempre più sovente anche nei suoi scritti portava il discorso su di essa come se la sua esistenza fosse così sicura come quella della nostra schiena benché non la si vede si impadronì di lui una vera passione di descrivere in tal modo qualcosa di incerto e di premonitore che ha intrezzato al troppo certo degli affari di questo mondo come un profondo silenzio a vivaci parole egli non negava l'utilità della scienza al contrario produceva lui stesso molto effetto mediante le sue solerti compilazioni come può fare soltanto un uomo che dispone di tutti i mezzi necessari ma dopo aver ottenuto tale effetto dichiarava che sopra il piano della perspicacia della precisione stava il regno della saggezza discernibile solo ai veggenti descriveva la volontà che fonda stati e commerci mondiali per lasciare intendere che con tutta la sua grandezza egli era soltanto un braccio messo in moto da un cuore che pulsava nell'invisibile spiegava al suo pubblico i progressi della tecnica o il valore della vita nel modo più comune come se lo figura ciascun borghese ma aggiungeva però che quell'uso delle forze dello spirito e della natura rimarrebbe nefasta ignoranza se non si intuisse che esse sono le commozioni di un oceano molto più profondo e appena scalfito dalle onde e formulava tali dichiarazioni nello stile degli additti emanati dal luogotenente di una regina spodestata che avesse ricevuto istruzioni da lei personalmente e conforme a quelle reggesse il reame forse quell'ordine era la sua più schietta e più violenta passione una sete di potere che superava tutto ciò che un uomo persino nella sua posizione potesse concedersi e portava come conseguenza immediata che l'uomo così potente nel campo della realtà doveva ritirarsi almeno una volta all'anno nel suo castello in campagna e dettare un libro al suo segretario stenografo lo strano presentimento che da prima e più vivamente lo aveva turbato nei suoi anni giovanili si era scavato questa strada ma da allora lo visitava ancora direttamente sebbene con diminuito vigore in mezzo ai suoi commerci mondiali lo soprafaceva allora una soave fiacchezza e nostalgia del chiostro e gli sussurrava che tutte le contraddizioni tutte le grandi idee tutte le esperienze e gli sforzi universali non sono soltanto una cosa sola come si intende poco esattamente per cultura e umanità ma anche in un significato brutalmente letterale e radiosamente inattivo così come in una bella pallida giornata si forrebbe incrociare le mani guardare lungo il fiume e i prati e non staccarsi mai più in tal senso il suo scrivere era un compromesso e poiché c'è soltanto un'anima e questa non è palpabile ma confinata in esilio e di là s'annunzia in una maniera sola dal significato poco chiaro e dai molti significati e all'opposto sono innumerevoli e addirittura senza fine tutti i problemi della vita a cui si può rivolgere quel messaggio regale così sorse in lui con gli anni quella grave perplessità in cui incappano tutti i legittimisti e i profeti quando la cosa dura troppo bastava che Arnheim si sedesse a scrivere in solitudine perché la penna con fertilità addirittura paurosa conducesse i suoi pensieri dall'anima ai problemi dello spirito delle virtù dell'economia e della politica che rischierate da una fonte invisibile apparivano in una luce netta e magicamente uniforme quell'impulso espansivo aveva qualcosa di inebriante in cambio però era legato a quella scissura della coscienza che per molti è la premessa della creazione letteraria escludendo e dimenticando lo spirito tutto ciò che non fa parte del suo piano di lavoro davanti a un interlocutore e legato dalla persona di lui al contatto sebiasimarlo dovrebbe riflettere che possedere una doppia personalità spirituale non è più da un pezzo una bravura di cui solo i matti sono capaci ma che col ritmo dei nostri tempi la possibilità di giudizio politico la capacità di scrivere un articolo di giornale la forza di credere a nuovi indirizzi dell'arte della letteratura e innumerevoli altre cose sono fondate esclusivamente sull'abitudine a convincersi per un certo numero di ore contro le proprie convinzioni a scindere una parte del contenuto della nostra coscienza e a gonfiarlo sino a farne una nuova convinzione perfetta in questa maniera era ancora un pregio che Arnheim non fosse mai del tutto onestamente convinto di quel che diceva giunto al culmine dell'età virile aveva manifestato la sua opinione su ogni argomento possibile e immaginabile possedeva estese convinzioni e andando sempre avanti allo stesso modo non vedeva un confine dove avrebbe dovuto smettere di farsi anche in avvenire nuove convinzioni armonicamente sorte dalle antiche a un uomo dal pensiero così efficiente che in altri stati della coscienza esaminava bilanci e calcoli di produttività non poteva sfuggire che quello era un operare senza corso e senza parole anche se si allargava quasi a perdita d'occhio aveva limiti solo nell'unità della sua persona e benché Arzheim avesse una gran stima di sé non era quella una condizione soddisfacente per la sua intelligenza egli ne incolpava bensì quel resto di irrazionale che la vita mostra dappertutto all'osservatore informato cercava anche di rassicurarsi alzando le spalle con la considerazione che al giorno d'oggi tutto svanisce nell'illimitato e poiché nessuno può innalzarsi veramente al di sopra delle debolezze del suo secolo vi scorgeva addirittura una preziosa possibilità di esercitare la virtù della modestia propria di tutti gli uomini insigni colporre senza invidia più in alto di sé figure come Omero e Buddha perché erano vissuti in tempi più propizi ma poi quando toccò l'apice del successo letterario senza che nella sua vita di principe ereditario nulla di essenziale fosse mutato quel resto di irrazionale aumentò e aumentò in modo insopportabile la mancanza di risultati concreti e il disagio di aver fallito lo scopo e dimenticata la sua volontà prima egli contemplava l'opera sua e pur potendo esserne contento gli sembrava talvolta che come un muro di brillanti che ogni giorno si fa più spesso tutti quei pensieri lo avessero soltanto allontanato da un'origine riecheggiante lontane nostalgie proprio recentemente gli era accaduto uno sgradevole incidente di quel genere che l'aveva sconvolto e gli aveva approfittato degli ozzi che ora si concedeva più sovente del solito per dettare al suo segretario un articolo sulla concordanza fra edifici pubblici e concezioni dello Stato e aveva interrotto una frase noi vediamo il silenzio dei muri quando osserviamo questo palazzo per gustare un attimo la visione della cancelleria di Roma sorta non chiamata dinanzi al suo occhio interiore ma guardando di nuovo il dattilo scritto vide che il segretario correndo avanti secondo la sua abitudine aveva già scritto noi vediamo il silenzio dell'anima per quel giorno Arnheim non dettò altro e l'indomani fece cancellare la frase che cosa pensava ora di fronte a esperienze tanto vaste e profonde quella alquanto comune di un amore fisicamente legato a una donna Arnheim doveva purtroppo confessare a se stesso che pesava esattamente quanto la coscienza riassuntiva di tutta la vita che tutte le vie dello spirito si dipartono dall'anima ma nessuna vi fa ritorno certo molte donne avevano già potuto stimarsi felici di stringere legami con lui ma se non erano nature parassitarie erano donne artiste che avevano seguito studi e che svolgevano attività perché con le mantenute e con le donne che si guadagnavano la vita era facile intendersi sulla base di chiari rapporti le esigenze morali della sua indole lo avevano sempre ridotto a relazioni in cui l'istinto e le discussioni che inevitabilmente lo accompagnavano avessero un certo appoggio nella ragione ma Diotima era la prima donna che fosse mai penetrata nella sua vita più segreta e metamorale e perciò egli la guardava talvolta addirittura con astio in fin dei conti non era che la moglie di un impiegato aveva uno stile perfetto sì ma mancava di quell'altissima cultura umana che solo il potere può conferire e lui se avesse voluto legarsi interamente avrebbe potuto aspirare a una fanciulla dell'alta finanza americana o dell'alta nobilità inglese c'erano momenti in cui una differenza originaria di metodi educativi un orgoglio puerile fra il crudele l'ingenuo o lo sgomento del bimbo raffinato che va per la prima volta alla scuola pubblica trapelavano in lui così che il suo innamoramento sempre più forte gli apparivano come una minaccia di vergogna o di scandalo e se in quei momenti riprendeva a curare i suoi affari con la gelida superiorità che solo uno spirito morto e ritornato alla vita può avere la fredda e incontaminabile ragione del denaro gli sembrava in confronto all'amore una potenza di straordinaria purezza ma questo voleva dire soltanto che era giunto per lui il momento in cui il prigioniero non capisce come ha potuto lasciarsi rapire la libertà senza difenderla fino alla morte infatti quando Diotima diceva che cosa sono gli avvenimenti mondiali Ampè de Bruyautour de Notre-Am egli sentiva tremare l'edificio della propria vita 87 Mosbrugger balla Mosbrugger intanto era sempre rinchiuso nella cella delle carceri giudiziarie il suo difensore navigava di nuovo a gonfie vele e si adoperava presso le autorità e si adoperava presso le autorità affinché la causa non giungesse tanto presto all'ultimo tratto di penna Mosbrugger ne sorrideva sorrideva per noia la noia cullava i suoi pensieri di solito li spegne ma i suoi invece li cullava questa volta era uno stato simile a quello di un attore seduto nel camerino ad aspettare che lo chiamino in scena se Mosbrugger avesse avuto una grossa sciavola l'avrebbe presa e avrebbe tagliato la testa della seggiola avrebbe tagliato la testa al tavolo e alla fine al bugliolo e alla porta poi a tutto ciò che aveva decapitato avrebbe messo sopra la sua testa perché nella cella non vera altro ed era una bella cosa poteva figurarsela messa lì sui vari oggetti con il cranio largo i capelli che calavano sulla fronte come un vello gli oggetti allora gli piacevano se almeno lo spazio fosse stato più ampio e il cibo migliore era contento di non veder mai nessuno la gente era difficile da sopportare avevano un modo di sputare di stringersi nelle spalle che faceva cadere tutte le speranze e veniva voglia di colpirli alla schiena col pugno come per fare un buco nel muro Mosbrugger non credeva in Dio bensì nella propria ragione le eterne verità egli le chiamava con disprezzo il giudice il prete il gendarme doveva fare da sé e allora hai talvolta l'impressione che tutti ti sbarrino la strada vedeva davanti a sé ciò che aveva già visto tante volte i calamai il tappeto verde le matite poi il ritratto dell'imperatore alla parete e tutti lì seduti quello schieramento gli sembrava una tagliola mascherata invece che d'erbe e di fronde dalla consapevolezza che così deve essere allora gli tornava in mente un cespuglio sul gomito d'un fiume lo stridio d'una carrucola d'un pozzo frammenti confusi di paesaggio una scorta senza fine di ricordi che non sapeva di aver trovato allora gradevoli e sognava avrai molte cose da raccontare come sogna un giovane e quel giovane l'avevano messo tante volte in prigione che non diventava mai vecchio la prossima volta farò più attenzione pensava Mosfrugger altrimenti non mi capiscono e poi sorrideva con serenità e parlava di sé ai giudici come un padre che dice a suo figlio è una birba mettetelo dentro per un pezzo forse allora si correggerà naturalmente si irritava ogni tanto contro il regolamento carcerario oppure aveva qualche male ma allora poteva farsi condurre dal medico o dal direttore e così tutto rientrava in un certo ordine in una certa calma come l'acqua su un topo che viene negato dentro forse non era proprio questa l'immagine che egli vedeva ma l'impressione di essere adagiato come una gran distesa d'acqua specchiante che nulla può turbare la provava ormai quasi costantemente anche se non aveva parole per descriverla le parole che aveva erano mhm già già il tavolo era Mosbrugger la sedia era Mosbrugger la finestra con l'inferriata e la porta chiusa erano lui non c'era nella sua sensazione nulla di insolito e di insensato gli elastici erano spariti dietro ogni cosa o creatura quando vorrebbe accostarsi a un'altra c'è un elastico che si tende se no le cose potrebbero magari confondersi tutte e in ogni movimento c'è un elastico che non ti lascia mai fare proprio tutto quello che vorresti e adesso ad un tratto gli elastici non c'erano più oppure era soltanto il senso di impedimento come di elastici che tirano non deve essere facile far distinzioni precise per esempio le donne si tengono sulle calze con elastici ecco pensava Mosbrugger portano elastici intorno alle gambe come un amuleto sotto i vestiti come gli anelli che si dipingono intorno agli alberi da frutta perché i vermi non salgano su ma questo lo ricordiamo solo di passata perché non si creda che Mosbrugger sentisse il bisogno di dire a tutti fratello no lui non era così era soltanto dentro e fuori adesso era padrone di tutte le cose e le dominava metteva tutto al suo posto prima che l'ammazzassero poteva pensare a ciò che voleva per il momento tutto era docile come un cane ben educato sebbene imprigionato aveva uno straordinario senso di potenza la minestra arrivava puntualmente puntualmente lo svegliavano e lo conducevano a passeggio nella cella tutto era preciso fisso e rigoroso qualche volta gli sembrava quasi incredibile per una strana inversione gli pareva che quell'ordine emanasse da lui quantunque sapesse che gli era imposto altre persone fanno esperienze simili quando giacciono nell'ombra estiva di una siepe e le api ronzano e il sole trascorre piccolo e duro nel cielo lattiginoso il mondo gira come un giocattolo meccanico intorno a gente fatta così per Mosbrugger bastava già la veduta geometrica che la sua cella gli offriva nel contemplarla si accorgeva del suo pazzo desiderio di un buon pranzo lo sognava addirittura e di giorno la visione di un bel piatto d'arrosto di maiale gli stava davanti agli occhi con persistenza quasi sinistra appena la sua mente si staccava da altri pensieri due porzioni ordinava allora Mosbrugger no tre lo pensava con tanta forza accrescendo avidamente la sensazione che subito si sentiva sazio e nauseato avendo mangiato a crepapelle con la fantasia perché mai rifletteva crollando il capo alla voglia di mangiare segue subito l'impressione di scoppiare tra il mangiare e lo scoppiare stanno tutti i godimenti del mondo che mondo da cento esempi si potrebbe dimostrare quanto è angusto quello spazio ne basti uno se non hai quella data donna è come se di notte la luna salisse sempre più in alto e ti succhiasse e risucchiasse il cuore se invece l'hai avuta vorresti schiacciarle la faccia coi piedi perché così? si ricordò di aver sentito molte volte quella domanda dunque si potrebbe rispondere le donne sono donne e uomini perché gli uomini corron loro dietro ma coloro che gli facevano quella domanda non lo volevano mai capire volevano sapere perché si era cacciato in testa che tutti cospirassero contro di lui come se persino il suo corpo stesso non facesse parte della congiura in quanto alle donne la cosa è chiarissima ma anche con gli uomini il suo corpo se la intendeva meglio di lui una parola chiama l'altra si sa ciò che si conviene tutto il giorno si gira l'uno intorno all'altro e non batte ad occhio ci si trova fuori della striscia sottile dove si pratica assieme senza pericolo ma se era il suo corpo che l'aveva messo in quelle peste doveva anche trarnelo fuori a sua memoria Mosprugger era sempre stato irritato spaventato e il suo petto con le braccia tese si buttava in avanti come un grosso cane che ne abbia ricevuto l'ordine di più Mosprugger non poteva capire lo spazio fra cordialità e sazietà è ristretto si sa e quando si incomincia così fa presto a diventare terribilmente angusto e gli ricordava benissimo che i signori che usavano parole straniere e costituivano il tribunale giudicante gli avevano spesso obiettato ma non per questo si accoppa senz'altro una persona Mosprugger alzava le spalle c'è gente che è stata accoppata per quattro soldi o per niente perché un altro si è ficcato in testa qualcosa ma lui era un uomo d'onore a certe cose non si abbassava col tempo il rimprovero aveva fatto brezza e sarebbe piaciuto sapere perché di quando in quando si sentiva soffocare in quello spazio stretto o come dirlo altrimenti e bisognava che si facesse largo con forza perché il sangue gli scendesse dalla testa e tornasse a circolare ci pensava a lungo ma anche col riflettere non succedeva la stessa cosa quando incominciava un periodo buono lui non avrebbe voluto far altro che sorridere soddisfatto allora i pensieri non formicolavano più nel cervello a un tratto non c'era dentro che un'idea sola la stessa differenza che fra il barcollare d'un bambinetto e la danza d'una bella donna proprio una stregoneria il suono di una fisarmonica una lampada sul tavolo farfalle che volano dentro e vengono dalla notte d'estate così tutte le idee cadevano nella luce di quell'una oppure Mosbrugger le acchiappava con le sue grosse dita e le schiacciava ed ecco che per un momento avevano una fantastica apparenza di piccoli draghi una goccia del sangue di Mosbrugger era caduta sul mondo non si poteva vedere perché era buio ma lui sentiva quello che stava accadendo nell'invisibile i viluppi si districavano i grovigli si appianavano una danza silenziosa subentrava l'insopportabile rombo col quale il mondo sovente lo torturava tutto ciò che ora accadeva era bello come diventa bella una ragazza brutta quando non sta più lì sola mai presa per mano da altre trascinate nel ballo e la visione ha costruito una scala da cui già guardano giù altre fanciulle era bizzarro e quando Mosbrugger apriva gli occhi e vedeva la gente che in quei momenti in cui tutto gli obbediva danzando si trovava per caso vicina gli sembrava bella anch'essa allora non congiuravano contro di lui non formavano un muro e si capiva che solo lo sforzo di volerlo schiacciare deformava come un peso mostruoso l'aspetto degli uomini e delle cose e allora Mosbrugger danzava davanti a loro danzava dignitoso e invisibile lui che nella vita non ballava mai con nessuno mosso da una musica che diventava sempre più raccoglimento e sonno alvo della madre di Dio e infine pace stessa di Dio uno stato di meravigliosa inverosimiglianza di mortale dissolvimento danzava per giorni e giorni senza che nessuno lo vedesse finché tutto era fuori uscito da lui appeso rigido e sottile alle cose come una tela di ragno resa invisibile dal gelo se non si è provato tutto ciò come si vuole giudicare il resto dopo i giorni e le settimane lievi in cui Mosbrugger poteva quasi uscire fuori da se stesso venivano sempre i lunghi periodi di incarceramento le prigioni dello stato non erano nulla al confronto se allora voleva pensare tutto in lui si contraeva in vuota amarezza odiava le case del popolo e i circoli ricreativi dove gli volevano insegnare a pensare lui che ancora ricordava i lunghi balzi dei pensieri nel suo cervello si trascinava allora attorno su suole di piombo sperando di trovare un luogo dove tutto doveva tornare a cambiare oggi per quella speranza non poteva più avere che un sorriso di commiserazione non era mai riuscito a trovare un equilibrio fra quelle sue due condizioni in cui potersi reggere ne aveva abbastanza guardava alla morte sorridendo magnanimo nel resto aveva già veduto tanto mondo l'Austria e la Baviera e perfino la Turchia e tanti avvenimenti si erano svolti durante la sua vita di cui lui aveva letto nei giornali erano stati tempi agitati nel complesso dentro di sé si sentiva assai fiero di averli vissuti a pensarci su nei particolari era una faccenda imbrogliata e malinconica ma infine la sua strada vi passava attraverso e dopo la si poteva vedere tutta chiaramente dalla nascita alla morte Wolf Ruger non aveva affatto la sensazione che sarebbe stato giustiziato si giustiziava da sé con l'aiuto degli altri così egli vedeva ciò che doveva venire e tutto in qualche modo componeva un insieme le strade di campagna le città ai gendarmi e gli uccelli i morti e la sua morte lui stesso non ci capiva granché e gli altri ancor meno sebbene ne sapessero parlare di più sputava per terra e pensava al cielo che sembra una trappola per topi rivestita ad azzurro in Slovacchia le trappole da topi sono proprio così alte e rotonde commentava 88 il legame con le grandi cose si sarebbe dovuto ricordare prima un fatto che è già stato sfiorato in varie combinazioni la formula potrebbe suonare più o meno così nulla è tanto pericoloso per lo spirito quanto il suo legame con le grandi cose l'uomo cammina attraverso un bosco sale su una montagna e vede il mondo disteso ai suoi piedi contempla il suo bambino che tiene per la prima volta fra le brazza o assapora la felicità di occupare una posizione che tutti gli invidiano noi chiediamo che cosa potrà mai contenere l'animo suo certo e così pare anche a lui molte cose importanti e profonde solo non ha la presenza di spirito di prenderle diciamo così alla lettera le cose mirabili che gli stanno dinanzi e intorno rinchiudendolo come in una cassa magnetica estraggono da lui tutti i pensieri il suo sguardo coglie mille particolari ma egli ha l'arcana impressione di aver sparato tutte le sue cartucce fuori l'ora grande o profonda permeata d'anima o di sole riveste tutto il mondo di argento calvanico fino alle ultime foglioline e venature ma sull'altra estremità quella personale si nota ben presto una certa mancanza di materia interiore si può dire che lì si forma un grosso zero vuoto e rotondo tale stato è il classico indizio del contatto con il grande e l'eterno come anche dell'indugiare sulle vette eccelse dell'umanità e della natura alle persone che prediligono la compagnia delle grandi cose e tali sono specialmente le grandi anime per le quali le cose piccole non esistono affatto viene senza che se lo vogliano tratto fuori l'interno e dilatato in un'enorme superficialità perciò il pericolo del contatto con grandi cose si potrebbe anche chiamare legge di conservazione della materia spirituale e sembra che sia quasi universalmente valida i discorsi di gente altolocata dalla vasta sfera d'attività sono di solito assai più inconsistenti dai nostri di certi pensieri che stanno in relazione particolarmente stretta con oggetti particolarmente degni è evidente che apparirebbero triti e ritriti senza quel privilegio i doveri che più ci sono cari quelli della nazione della pace dell'umanità della virtù e simili sono carichi della più scadente flora mentale sarebbe un mondo veramente stramparato ma se si ammette che la trattazione di un tema può essere tanto più insignificante quanto più importante il tema stesso allora è il mondo dell'ordine questa legge però che tanto contribuisce alla comprensione della vita spirituale europea non appare sempre ugualmente chiara e in tempi di trapasso da un gruppo di grandi oggetti ad un altro l'intelletto che aspira al servizio dei grandi oggetti può sembrare addirittura sovversivo benché muti soltanto l'ivrea un trapasso simile si osservava già allora quando gli uomini di cui riferiamo avevano i loro cruci e i loro trionfi così ad esempio c'erano già libri per incominciare con un oggetto specialmente caro ad Arnheim di cui si tiravano moltissime copie ma non ottenevano tuttavia al massimo rispetto benché solo i libri da una certa tiratura in su potessero contare su un certo rispetto c'erano industrie di molto conto come quella del calcio e del tennis ma si esitava ancora a istituirne le cattedre universitarie insomma sia stato quell'attaccabriga dell'ammeraglio Drake buonanima a portarci le patate dall'America ponendo fine alle periodiche carestie europee oppure l'ammiraglio Relaig buonanima più colto e altrettanto attaccabrighe o ancora ignoti soldati spagnoli o addirittura il buon Hawkins truffatore di mercanti e di schiavi per molto tempo nessuno si è sognato di considerare costoro per via delle patate più grandi ad esempio del fisico Al Schirasi del quale si sa soltanto chi ha dato la spiegazione esatta dell'arcobaleno ma con l'avvento dell'età borghese si era cominciato a rivedere la scala dei valori di tali realizzazioni e al tempo di Arnheim l'emendamento già molto avanti era soltanto ostacolato da qualche antico pregiudizio la quantità dell'effetto e l'effetto della quantità come nuovo fulgidissimo oggetto di venerazione lottava ancora con l'aristocratica ormai vecchia e cieca venerazione dell'alta qualità ma nel mondo dei concetti ne erano già sorti i compromessi più pazzeschi prima fra tutti il concetto del grande spirito che così come noi l'abbiamo conosciuto durante l'ultima generazione doveva essere una sintesi dell'importanza propria e di quella delle patate da che si aspettava un uomo che fosse remoto e solingo come il genio ma al tempo stesso intellegibile e popolare come l'usignolo era difficile dire in anticipo che cosa ne sarebbe venuto fuori poiché il pericolo del collegamento con le grandi cose si scorge soltanto quando la grandezza di quelle cose è già mezzo passata nulla di più facile che ridere dell'usciere che in nome di sua maestà ha trattato dall'alto in basso le parti convocate ma se l'uomo che in nome del domani tratta dal basso in alto l'oggi sia o non sia un usciere non lo sapremo probabilmente fino a dopo domani il pericolo del legame con le grandi cose ha questo particolare sgradevole che le cose cambiano ma il pericolo resta sempre lo stesso 89 bisogna camminare coi tempi il dottor Arnheim aveva ricevuto la visita annunciata di due alti funzionari della sua ditta e conferito a lungo al mattino il salotto era ancora cosparso di carte e di calcoli in attesa del segretario che li riordinasse toccava ora a Arnheim prendere certe decisioni i delegati dovevano ripartire con un treno del pomeriggio ed egli oggi come sempre godeva di tali circostanze che gli garantivano in ogni caso una certa emozione tra dieci anni egli pensava la tecnica sarà così progredita che la ditta avrà aeroplani propri allora potrò dirigere il mio personale anche villeggiando sull'Himmalaia poiché aveva già riflettuto nella notte alle decisioni da prendere e non gli restava che esaminarle ancora una volta alla luce del giorno e approvarle definitivamente per il momento era libero si era fatto portare la colazione in camera e con il sigaro del mattino si abbandonò alla distensione spirituale pensando al ricevimento di Diotima che la sera prima aveva dovuto lasciare un po' per tempo era stata quella volta una riunione divertentissima molti degli intervenuti avevano meno di 30 o al massimo 35 anni ma erano già conosciuti e notati dalla stampa non soltanto austriaci ma gente di tutto il mondo attirata dalla voce che in Cacania una donna dell'alta società stava aprendo una strada allo spirito attraverso l'orbe in certi momenti sembrava di essere al caffè e Arnheim sorrise pensando a Diotima che sembrava spaventata pur fra le quattro mura domestiche ma nell'insieme era stata una serata animatissima e in ogni caso secondo lui un esperimento molto interessante la sua amica delusa dalle sterili riunioni di vere celebrità aveva fatto un risoluto tentativo di vivificare l'azione parallela con spiriti giovani e le relazioni di Arnheim le erano state utilissime e gli crollò il capo ripensando ai discorsi che gli era toccato di udire li aveva trovati semplicemente pazzi ma bisogna essere condiscendenti con la gioventù disse a se stesso ci si rende impossibili se la si respinge senz'altro si sentiva anche se così si può dire seriamente esilarato perché per una volta solo era stato un po' troppo che cos'era che volevano mandare subito al diavolo l'esperienza quell'esperienza personale intendevano dire nel cui calore terreno e aderenza alla realtà l'impressionismo 15 anni prima si era estasiato come d'un miracolo adesso l'impressionismo lo dichiaravano smidollato e senza cervello e invocavano la repressione della sensualità e la sintesi spirituale la sintesi pareva essere insomma il contrario dello scetticismo della psicologia dell'introspezione dei gusti letterali paterni per quanto se ne poteva capire la sintesi non era intesa in senso filosofico si trattava piuttosto di ossa e muscoli giovani che avevano voglia di muoversi senza impaccio di saltare e ballare liberandosi ad ogni ostacolo mediante la critica se faceva loro comodo non esitavano a mandare all'inferno anche la sintesi in compagnia dell'analisi e di tutto quanto il pensiero allora poi sostenevano che lo spirito deve essere maturato dal succo dell'esperienza di solito erano i membri di un altro gruppo quelli che facevano queste asserzioni ma talvolta erano anche gli stessi zelanti di quali parole straordinarie si servivano esigevano temperamento intellettuale la categoria del ragionamento rapido che afferra il mondo alla gola il cervello ipersensibile dell'uomo cosmico che altri verbi avevano proclamato il ridimensionamento dell'uomo sulla base di un piano di lavoro mondiale all'americana attraverso il mezzo fisico della forza meccanizzata il lirismo congiunto alla penetrante drammaticità della vita il tecnicismo uno spirito degno dell'età della macchina Bleriot aveva esclamato uno trasvola in questo momento la manica con la velocità oraria di 50 km bisogna scrivere questo poema di 50 km e buttare nell'immondezzaio tutta l'altra letteratura ammuffita predicavano l'azzererismo cioè l'accrescimento massimo della velocità delle esperienze sulla base della biomeccanica sportiva e della precisione acrobatica il rinnovamento fotogenico per mezzo del film poi uno aveva detto che l'uomo era un misterioso spazio interiore sicché bisognava dargli un rapporto col cosmo mediante il cono la sfera il cilindro e il cubo ma fu affermato anche il contrario cioè che tale concetto individualistico dell'arte era superato e che bisognava ispirare all'uomo dell'avvenire un nuovo senso della casa costruendo edifici popolari e villaggi e mentre si era affermato così un partito individualistico e sociale un terzo sostenne che solo gli artisti religiosi sono sociali nel vero significato della parola un gruppo di nuovi architetti rivendicò poi per sé il comando perché lo scopo dell'architettura era appunto la religione con influsso concomitante anche sull'amor di patria e la fedeltà alla terra il gruppo religioso rinforzato da quello cubico replicò che l'arte non era una questione dipendente bensì una questione centrale l'adempimento di leggi cosmiche ma nel seguito della discussione il gruppo religioso fu poi nuovamente abbandonato da quello cubico il quale finì per allearsi con gli architetti nel sostenere la tesi che il rapporto col cosmo era meglio ottenuto mediante le forme spaziali che rendono valido e tipico l'elemento individuale fu annunciata la proposizione che bisognava proiettarsi nell'anima umana per poi fissarla nelle tre dimensioni qualcuno in tono energico e battagliero chiese se erano più importanti diecimila persone affamate o un'opera d'arte in realtà poiché erano quasi tutti artisti d'una specie o dell'altra erano unanimemente persuasi che la guarigione spirituale dell'uomo si deve cercare soltanto nell'arte solo che non erano riusciti a mettersi d'accordo sulla natura di questa guarigione e sulle esigenze da porre in suo nome all'azione parallela ecco che a questo punto il gruppo originario sociale riprese il sopravvento e fece udire nuove voci il quesito se fosse più importante un'opera d'arte o la miseria di diecimila affamati si trasformò in quest'altro se diecimila opere d'arte compensavano la miseria di un uomo solo artisti poderosi dichiararono che non è lecito all'artista darsi tanta importanza basta con l'auto incensamento essi proclamavano l'artista sia affamato e sociale qualcuno disse che la vita era l'unica e la massima opera d'arte una voce energica interruppe non è l'arte che unisce bensì la fame una voce conciliante ricordò che il mezzo migliore contro l'esagerata opinione di sé era una salubre attività artigiana e dopo quel tentativo di compromesso qualcuno approfittò del silenzio causato dalla stanchione dal disgusto reciproco per chiedere di nuovo placidamente se credevano sul serio di poter concludere qualcosa prima che fosse ristabilito il contatto fra l'uomo e lo spazio fu il segnale per la ricomparsa tumultuosa del tecnicismo dell'accelerismo e di tutto il resto e il dibattito si prolungò senza decisioni alla fine però si misero d'accordo perché bisognava andare a casa e venire a qualche risultato perciò tutti consentirono in una conclusione all'incirca così formulata il tempo attuale è tempo d'attesa impaziente indisciplinato infelice il messia che si invoca e si aspetta non è tuttavia ancora in vista Anheim meditò per un momento aveva sempre avuto un circolo di persone intorno quando se ne staccava qualcuno che non udiva bene o non riusciva a mettersi in evidenza subito altri li sostituivano anche di quest'ultima riunione era stato lui decisamente il centro pur non essendo ciò sempre risultato nella discussione alquanto incivile già gli era noto da un pezzo ciò che gli preoccupava conosceva annessi e connessi del cubo aveva fatto costruire delle città giardino per i suoi dipendenti era esperto di macchine con il loro ritmo e la loro intelligenza sapeva parlare di introspezione dell'anima e aveva investito capitali nelle nuove industrie cinematografiche facendo la sintesi di quell'analisi si ricordò che non era stata affatto così ordinata come la sua memoria senza volerlo gliela presentava tali dibattiti hanno un corso singolare come se ai partecipanti collocati dentro un poligono con gli occhi bendati si ingiungesse di avanzare in linea retta armati di un bastone è uno spettacolo confuso e faticoso senza ombra di logica ma non ritrae fedelmente lo svolgersi delle cose anche in grande anche quello non risulta dai divieti e dalle leggi della logica a cui spetta tutt'al più l'ufficio di una polizia ma dagli impulsi disordinati dello spirito così Arnheim si interrogava ricordando l'attenzione destata in lui e gli parve di poter anche concludere che il nuovo modo di pensare somigliava alla libera associazione di idee in un cervello oscurato cosa che senza dubbio è molto stimolante per eccezione accese un secondo sigaro benché di solito non indulcesse in simili debolezze sensuali e mentre teneva ancora fra le dita il fiammifero e muoveva i muscoli del viso nelle prime aspirazioni del fumo gli venne improvvisamente da ridere ricordando il piccolo generale che era venuto a parlargli nel corso della serata poiché gli Arnheim possedevano una fabbrica di cannoni e di piastre corazzate e in caso di emergenza potevano produrre quantità enormi di munizioni egli non si era affatto stupito che il generale un po' buffo ma simpatico parlava in modo ben diverso dai generali prussiani più trasandato più naturale ma come dire impregnato di antica civiltà certo bisognava aggiungere di una civiltà in decadenza si fosse rivolto confidenzialmente a lui sospirando addirittura con filosofia e gli avesse espresso la sua opinione sui discorsi che si tenevano quella sera e che almeno in parte non lo si poteva negare avevano un carattere radicalmente pacifista il generale unico ufficiale presente non si sentiva troppo a suo agio e si era ragnato delle oscillazioni dell'opinione pubblica perché certe dichiarazioni sulla intangibilità della vita umana avevano suscitato molto consenso io quella gente non la capisco aveva detto a Darheim e gli aveva chiesto di illuminarlo con il suo ingegno di fama internazionale non capisco perché parlano così a vanvera di generali sanguinari ho l'impressione di capire abbastanza bene i signori più anziani che si incontrano qui sebbene siano tutto quel che si può immaginare di meno militaresco per esempio quando il famoso poeta non so come si chiama quel vecchio signore con la pancia che ha scritto versi sugli dai della grecia le stelle e gli imperituri sentimenti umani la padrona di casa mi ha detto che è un poeta autentico in un'epoca che produce tutto al più dei begli insegni dunque come dicevo non ho letto niente di suo ma lo capirei certamente se è vero che il suo significato sta soprattutto nel fatto che lui di piccolezze non se ne impiccia insomma è quello che noi militari chiamiamo uno stratega il saggente se lei mi permette questo esempio di grado inferiore deve naturalmente provvedere al benessere di ogni singolo uomo della sua compagnia lo stratega invece calcola con migliaia di uomini come unità minima e deve anche essere capace di sacrificare dieci di tali unità in una volta se un intento superiore lo esige secondo me non c'è nessuna logica a chiamarlo in un caso generale sanguinario e nell'altro ideale eterno e la prego di spiegarmelo se è possibile la strana posizione di Arnheim in quella città e in quell'ambiente sociale aveva destato in lui una certa voglia di scherzare di solito accuratamente repressa sapeva ciò che intendeva dire il piccolo generale sebbene non lo desse a vedere ed altronde questo non importava lui stesso avrebbe potuto addurre altri esempi del genere quella sera non avevano fatto una bella figura c'era poco da discutere e marzo in tali sgradevoli riflessioni Arnheim trattenne un attimo il fumo del sigaro fra le labbra socchiuse neanche lui in quell'ambiente si era sentito del tutto a suo agio ma nonostante il suo prestigio gli era arrivata all'orecchio qualche osservazione maligna come se fosse stata diretta contro di lui e l'oggetto della condanna era sovente per l'appunto ciò che egli in gioventù aveva amato proprio come adesso questi giovani non amavano le idee della loro generazione era un'espressione assai strana si sarebbe potuto dire quasi sinistra essere ossequiato e riverito da giovani che senza riprendere fiato irridevano crudelmente a un passo di cui lui in segreto si considerava partecipe Arnheim ne provava dentro di sé una sensazione di elasticità di trasformismo di intraprendenza quasi addirittura l'audace protervia di una cattiva coscienza ben dissimulata intravide in un lampo ciò che lo separava da quella nuova generazione i giovani si contraddicevano l'un l'altro in tutto e per tutto sulla cosa in comune era la lotta contro l'obiettività la responsabilità morale l'equilibrio una circostanza speciale faceva sì che Arnheim ne provasse qualcosa come una gioia maligna la stima soverchia che godevano certi suoi coetanei dalla personalità particolarmente spiccata gli era sempre stata poco simpatica un avversario distinto come lui di certo non faceva nomi neanche mentalmente ma sapeva benissimo a chi pensava un giovanotto insipido modesto ingordo di piaceri illustri per dirla con Aine che Arnheim amava di nascosto e in quel momento citava tra sé bisogna lodare la sua diligenza e il suo zelo nella poesia l'amara fatica la tenacia indicibile e gli sforzi accaniti con cui elabora i suoi versi le muse non gli sono amiche ma egli ha nelle mani il genio della lingua la spaventosa violenza che deve fare a sé stesso lui la chiama una grande azione in parole Arnheim disponeva di un'ottima memoria e poteva citare a mente pagina intere si mise a divagare ammirò che Aine combattendo un uomo del proprio tempo avesse descritto anticipatamente figure che solo adesso erano tenute in grande considerazione e volgendo ora la mente al secolo rappresentante della corrente idealistica tedesca il poeta del generale si sentì animato a produrre un'opera propria il poeta del generale era il tipo spirituale grasso dopo quello magro il suo idealismo solenne corrispondeva a quei grossi profondi strumenti a fiato dell'orchestra che sembrano caldaie di locomotive messe ritte e producono insopportabili grugniti e frastuoni con un suono coprono infinite possibilità soffiano fuori grossi fagotti pieni di eterni sentimenti chi sa strombettare versi in queste maniere pensò Arnheim non senza amarezza passa oggi per un poeta a differenza del letterato e allora perché non addirittura per un generale costoro sono in ottimi rapporti con la morte e hanno continuamente bisogno di qualche migliaio di morti per godere con dignità l'attimo fuggente della vita ma qualcuno aveva sostenuto che anche il cane del generale abbaiante alla luna in una notte di rose interrogato avrebbe potuto rispondere che volete quella è la luna e questi sono i sentimenti eterni della mia razza proprio come uno dei signori che perciò erano diventati celebri e avrebbe anche potuto soggiungere che il suo sentimento era senza dubbio fortificato dall'esperienza e la sua espressione ricca e commossa e tuttavia così semplice che il pubblico la capiva in quanto ai nostri pensieri essi stavano molto addietro al suo sentimento ma questo corrispondeva in tutto e per tutto alle esigenze vigenti e nella letteratura non era mai stato un ostacolo Anheim sgradevolmente colpito trattenne ancora una volta il fumo del sigaro fra le labbra che rimasero un momento aperte come una barriera a metà sollevata fra la persona e il mondo esterno aveva lodato in tutte le occasioni parecchie di quei poeti particolarmente puri perché così si conviene e qualche volta aveva anche dato loro aiuti in denaro ma in fondo se ne avvedeva adesso non li poteva soffrire insieme coi loro versi gonfi e presuntuosi quei personaggi eraldici che non sono neanche capaci di sfamarsi e gli pensò si dovrebbero mettere in un parco nazionale con gli altri esemplari di bisonti e di aquile e poiché come il ricevimento della sera prima aveva dimostrato non era consono ai tempi dar loro un appoggio finanziario le riflessioni di Arnheim si conclusero non senza profitto per lui